e siamo live. Allora, oggi ho il piacere di avere Matteo, Matteo e Tommaso. Dovremmo parlare di alcuni temi, tra i quali la spesa pubblica di Keynes e come viene interpretata in Italia, che verrà posta da Matteo Rapagna. Presentati Matteo, presenta anche la domanda. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Io sono Matteo Rapagna, sono iscritto all'ultimo anno di laurea magistrale in Economia e Manager nel percorso finanza. A seguito di, in realtà, numerosi confronti che ho avuto con esponenti di vari partiti, destra e sinistra e irrilevante, ho notato alcune incongruenze nel concetto di spesa pubblica e di post keynesiani e spesa pubblica keynesiana, intesa come spesa pubblica discriminata e universale in ogni periodo dei dei cicli economici. E quindi, niente, mi sarebbe piaciuto chiarire questa cosa su come oggi viene intesa nel dibattito pubblico italiano e accademico il concetto di spesa pubblica e spesa pubblica in periodi di crisi. E anche come viene visto all'estero, perché io purtroppo non ho mai avuto la possibilità di studiare in università estere, mi piacerebbe sapere come viene visto all'estero. Io sono in Francia, non so se lo sai, e ti posso dire che almeno in Francia sembra che tutto il mondo sia paese sulla spesa pubblica. Non è comportante però, eh? No, no, per niente, per niente. Devo ammettere che è in situazione tosta sotto quel punto di vista. In realtà ne avrei tantissime di domande, questa era quella che più mi sta a cuore, perché ho avuto proprio un accesso a dibattito con una persona che conosco bene, un esponente di un partito, e mi faceva proprio piacere chiedere questa cosa, anche in occasione di futuri dibattiti, per non andare sprovvisto di informazioni o altro. Dopo c'era Matteo, presentati Matteo e... Sì, ciao, ecco, sono Matteo Attaglio, ingegnere informatico, mi sono inaugurato mai lontano nel 2012, faccio lo sviluppatore software, e quindi io da profano dell'economia in realtà ho mandato la mia domanda al prof, volevo la sua opinione su qualcosa che magari per voi più del settore è ovvia o banale, ma è una cosa che mi assilla perché sento spesso citare, parlare di questo argomento sull'ineguaglianza, o la diseguaglianza che si voglia, della ricchezza e del fatto che l'obiettivo primario dei governi dovrebbe essere quello di ridurre questa ineguaglianza di ricchezza tra le persone. E io mi sono sempre chiesto in realtà se davvero sia questo l'obiettivo primario, la vera sorgente di benessere e questo il modo per raggiungerlo, o se invece non sia semplicemente innalzare il più possibile lo stile di vita della long tail, di quelli che a fine mese ci arrivano giusto al pelo, perché non mi è chiaro, nel mio non essere esperto, come il fatto di creare questo stato di eguaglianza possa automaticamente fare in modo che tutti i benefici riescano a essere prosperi come sembrerebbe che questo comporti. E anche il fatto che, altra cosa, sento sempre parlare della ricchezza è come se fosse un gioco a somma zero, ad esempio quando la capitalizzazione di Tesla aumenta di 100 miliardi di dollari e Elon Musk ne guadagna quasi altrettanti, è come, sento persone indignate, come se li avesse sottratti al resto del mondo, cosa che a me sembra palesemente non vera, no? Eppure politici, cioè non gente della strada, ma politici che si indignano e chiedono che vengano tassati e che sia che rendere illegale questa... E quindi siccome lo si sente, cioè, sento veramente spesso questo argomento, mi dico, ma allora sono scemo io che non capisco perché è giusto, oppure no? Questa è la mia domanda. Aspetta che ce la posso fare a togliermi il muzzo del microfono. No, comunque ti faccio i complimenti innanzitutto perché non ti sei soffermato alla prima cosa che è, ok, se riduciamo le disuguaglianze, meglio, che non è assolutamente del detto, perché puoi ridurre le disuguaglianze facendo stare peggio tutti quanti, guarda molti paesi socialisti sotto questo punto di vista, bravo già che non ti sei fermato, e hai detto che serve comunque un punto di minimo, chiamiamolo così, no? Non mi ricordo come si dice in italiano, non mi viene neanche espressione in inglese al momento, però sì, cioè, te devi mettere un limite inferiore, dici, ok, le persone non devono stare peggio di così. Poi, che ci sia più o meno disuguaglianza è secondario al fatto che le persone non devono morire di fame e via dicendo. E ti faccio i miei complimenti perché sei arrivato a questa conclusione. sì, penso che il prof elaborerà su quello che hai detto. Poi adesso rimane Tommaso. Tommaso, presentati anche tu. Sì, buonasera a tutti, io sono Tommaso, sono di Milano, lavoro nel settore finanziario, mi sono laureato nel 2015 in Inghilterra. La mia domanda per il prof è molto simile a quella di... Molto simile, diciamo che è il pregresso della domanda di Matteo Battaglio. Ovvero, è vero che ci sono delle disuguaglianze che stanno aumentando sempre di più, se ci sono delle differenze tra paesi in via di sviluppo e paesi già sviluppati in questo senso, quindi se la ricchezza si sta concentrando sempre di più, ammesso in un concesso che sia così nei paesi più sviluppati, mentre in quelli via di sviluppo l'uguaglianza sta aumentando, se si può usare questo termine, come, nel senso, c'è una grossa branca, una grossa filosofia dell'economia capeggiata, penso, da Picchetti, che nel suo Capitale del XXI secolo descrive come sia una situazione quasi agghiacciante, quella della concentrazione del patrimonio sempre nelle mani di meno persone. Volevo sapere dal prof se è vera questa teoria che ormai prende piede da parecchio, quella di Picchetti, e se lo Stato dovrebbe fare qualcosa, e quindi qua mi rifaccio alla domanda anche che ha fatto Matteo, se lo Stato dovrebbe mettere in atto delle politiche per far sì che l'uguaglianza sia il più distribuita possibile oppure se dobbiamo massimizzare il benessere comune senza andare a vedere l'uguaglianza dei singoli. Scusami, scusami, ti stavo ascoltando fino a quando non è arrivata la chiamata del sommo. Il prof sta avendo, come ho detto ai ragazzi prima, sta avendo dei problemi e quindi è in macchina, sta andando in ufficio a collegarsi col computer dell'ufficio, dato che sta avendo problemi col suo lato. Quello che hai detto anche te, quello che hai detto te è anch'esso molto interessante, perché in economia c'è una cosa, chi studia Growth and Development, che sarebbe macroeconomia 2, macroeconomia 3, non lo so, non importa, non è quello il punto, c'è una cosa che si chiama la curva di Kuznet e in questa curva fai conto che ha forma di U inversa, quindi è come una gaussiana, e ti dice che, e quindi hai sull'asse delle X, hai il GDP per capita, quindi quanto è il PIL pro capite, no? Sulla curva delle Y, sull'asse delle X. Sull'asse delle Y invece hai le disuguaglianze. Ed essendo come una gaussiana, quindi a U inversa, hai che all'aumentare del PIL pro capite, notiamo che, adesso io qua mi gioco tutto cercando di spiegare la curva di Kuznet, all'aumentare del GDP per capita. Scusami, Scusami, Loret, l'indice di uguaglianza sarebbe quello dell'asse delle Y, sarebbe per intenderci l'indice di Gini, per esempio? Sì, sono simili, si ricollegano, sì, sono basate sulle stesse cose. E quindi hai che all'aumentare del PIL pro capite, all'inizio, quando un paese è estremamente povero, no? All'aumentare del PIL pro capite aumentano anche le disuguaglianze, no? Però, quando diventano da developing countries a developed countries, oppure more developed countries, comincia invece a scendere la disuguaglianza. Quindi aumentando il PIL pro capite diminuiscono anche le disuguaglianze. Questo è quello che si nota dai dati, con questa famosa curva che si chiama Curva di Kuznet. Piketty però sostiene il contrario. Vabbè, Piketty, facciamo rispondere il prof che è più tecnico. Io per adesso vi posso dire solo questo, sulla Curva di Kuznet, che l'ho letto, ascoltato. Ah, poi c'è l'ultima, c'è l'ultima questione, c'è l'ultima domanda che mi ricordo che ho letto un commento sulla Cambridge Capital Controversy. c'è un ragazzo che era estremamente interessato. Ecco la domanda la dove fare io, perché abbiamo scritto il ragazzo che voleva farla, però non ci ha risposto. E il tema, però noi lo troviamo, almeno io lo trovo estremamente importante, cioè, importante, lo trovo estremamente interessante. È una cosa che quelli che non sono addetti alle voi non conoscono, e anche io conosco molto poco. Cioè, l'ho letto una o due volte su Wikipedia. E c'è questa cosa qua che si chiama La controversia delle due Cambridge. Perché sapete che a Cambridge in UK, nel Regno Unito, c'è Cambridge, avete presente Oxford e Cambridge, le due università. C'è Cambridge, e invece a Cambridge in Massachusetts c'è l'MIT, il Massachusetts Institute of Technology. C'è anche Harvard, dall'altra parte della via di Cambridge. Però, e quindi sì, c'è stato questo grande, acceso e lungo dibattito che è durato tipo 15-20 anni. Immaginate, no? Economisti che discutono dello stesso tema per 20 anni. Bellissimo dibattito. Avrei tanto voluto essere là. E discutono della teoria della crescita. Si basa su... Non so se avete fatto Solo Swan, il modello Solo Swan. È molto interessante. Niente, se volete possiamo cominciare... Io posso fare Share. Share Screen. Aspettate. Come faccio? Chi mi conosce sa che sono un po' sono un po' Boomer. e che quindi ho problemi ho problemi con con la tecnologia. Comunque sì, è questa. Se volete, zoom un po' di più. Ok. Cambridge Capital Controversy. Qualche volta chiamata la controversia capitale o il dibattito dalle due Cambridge, è una disputa tra due proponenti di due posizioni teoretiche e matematiche in economia che è cominciata nel 1950 ed è durata ben dentro gli anni 60. Il dibattito era riguardo la natura del ruolo del capitale, dei beni capitali e la critica neoclassica della visione della funzione aggregata e di istituzione. il nome nasce dalla location ed è composta da John Robinson e Piero Straffa non so se lo conoscete che sono i campi di Cambridge molto famosi e gli economisti Paul Samuelson e Robert Solo dell'MIT. La parte inglese è chiamata spesso post-kenesiana alcune la chiamano anche neoricardiana e invece quella di Massachusetts è chiamata neoclassica. gran parte del dibattito è matematico mentre alcuni degli elementi più importanti possono essere spiegati da un problema di aggregazione. La critica neoclassica della teoria potrebbe essere semplificata dicendo che la teoria soffre di una fallacia della composizione nello specifico che non si può estendere un problema microeconomico non so se sapete cos'è in microeconomia si studia le interazioni del singolo agente magari come interagisce come si approccia a non so facciamo conto a un mercato in perfetta concorrenza come si approccia a un mercato in cui è monopolista cioè quindi tutte quelle cose là quindi hai il singolo agente economico e studi come esso si comporta e invece nella macroeconomia hai gli aggregati gli aggregati economici cioè quindi la somma di tutti i singoli agenti presenti nell'economia e quindi questa è la fallacia della composizione cioè estende il modello microeconomico del singolo agente a tutta la società questa è almeno la loro critica anche con questo molto divertente non c'è stata una risoluzione e non non hanno trovato un accordo ok stop sharing ora io spero vi sia piaciuta la mia presentazione che magari un giorno finirò a fare il professore no benjam ah ecco ecco ora ho capito la battuta benjamin lawrence perché era dobbio e l'ho letta al contrario è stata per favore prof ci dia una spiegazione una sua opinione perché io non so cosa sia sta roba e a breve dovrei lavorarmi nella magistrale in economia quindi raga raccontatemi qualcosa qualcosa di voi che io non so più cosa dire mi sentite sì 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 anche io so di cosa parla ogni tanto ci sono quelle domande tecniche che mi chiedo se c'è bisogno di un page di solo per capire di cosa stanno parlando io ho la scusa che non ho fatto economia quindi anch'io che l'ho fatta non ho idea di di che cosa stesse parlando ma è tutto maso di cosa ti occupi nello specifico che hai provato a raccontarcelo prima allora è molto un settore molto di nicchia come ti dicevo prima è il mondo delle fiduciari che in pochi conoscono perché è una cosa che penso esista solo in Italia in Europa almeno per come è strutturata noi facciamo da intermediazione tra banche estere principalmente svizzere e contribuente italiano fondamentalmente questo è il core business diciamo perché si basa sul fatto che il contribuente italiano può avere un conto corrente all'estero ma naturalmente mentre se uno ha il conto corrente su intesa Milano compra e vende titoli e la banca che fa che paga le imposte quindi non bisogna inserire nulla in dichiarazione dei redditi la banca estera questo non lo può fare quindi non può interagire direttamente con il fisco italiano pagando le plusvalenze o le imposte sulle cedole in Italia si può invece che intestarsi si dice intestarsi in chiaro il conto si intesta il conto a una fiduciaria che è il lavoro che faccio io e è il sostituto d'imposta che quando si è su banca italiana è la stessa banca italiana è la stessa banca italiana il sostituto d'imposta nel caso di intestazione fiduciaria di un conto estero diventa la fiduciaria stessa quindi non c'è bisogno di inserire in dichiarazione dei redditi nulla ed è come se il conto si dice rimpatrio giuridico quindi è come se giuridicamente il conto fosse in Italia anche se fisicamente all'estero questo è il business principale poi un altro business che andava più in passato adesso che io ho visto poco adesso si fa ancora ma in in misura minore è ragazzi I took over I took over this place now it belongs to me questa è una citazione a Nazareno perché siamo entrambi scusami se ti interrotto siamo entrambi su la mia Italia no? è Nazareno un giorno dal nulla è diventato dittatore di tutto ha preso il canale ha fatto tutto lui e e adesso mi critica che ho preso il posto del prof proprio tu tu cuoco è Nazareno tu cuoco scusami continua che era abbastanza interessante stai parlando del business secondario no si di quello che su cui sono nata è l'intestazione di società di capitale ovvero io sono un manager non voglio comparire in camera di commercio in Italia come intestatario della Pincopallino SRL per motivi miei personali e si può ricorrere all'intestazione fiduciaria di società quindi in camera di commercio non risulterà intestatario Mario Rossi ma la società fiduciaria ai fini antiriciclaggio la guardia di finanza per intenderci sa benissimo sa benissimo chi siano i titolari effettivi ma Andrea Bianchi che va a farsi la visura in camera di commercio non ha idea di chi sia il titolare effettivo però è un business visto molto male dall'Unione Europea in generale con le nuove normative antiriciclaggio che stanno diventando sempre più restringenti e andrà a morire questo business comunque è riconducibile no scusami è riconducibile il proprietario no? il proprietario è un titolare effettivo è chiaro che il proprietario il beneficiario economico è lui il solo scopo è quello di non comparire in camera di commercio ovvero che chiunque voglia farsi una visura e chiunque la può fare pagando 2, 3, 4 euro di visura camerale può sapere chi sono i proprietari della SRL in questione facendo una visura con intestazione fiduciaria uno vede il nome della fiduciaria e non vede il nome di Mario Rossi anche se poi il titolare effettivo è lui è tutto dichiarato naturalmente infatti non capisco non capisco perché così tanto per la trasparenza per la trasparenza infatti adesso con la nuova normativa antiriciclaggio che è entrata in vigore dall'Unione Europea si è creato il registro dei titolari effettivi con il registro dei titolari effettivi non si sa ancora chi avrà accesso a questo registro però si parla di commercialisti e avvocati quindi in quel caso finisce il business di intestazione di società di capitali perché è chiaro che nel momento in cui invece che farla io la visura la faccio fare al mio commercialista però è molto in realtà è una cosa molto cioè è un accanimento che ci dovrebbe essere più su paesi come Lussemburgo secondo me che sono in questo campo dove fanno molte più porcate tra virgolette Lussemburgo e adesso Londra con la Brexit che in finanza dicono sia la nuova capitale del riciclaggio mondiale Londra eh sì ho sentito non ho prove né niente però per sentito dire sì ho sentito mannaggia Tommaso ti posso fare una domanda? Mi senti? Certo certo sì sì ma quali sono i clienti il cliente tipo qual è la tipologia di clientela che avete che ha il settore in generale magari non il tuo allora nel settore quello parlando di intestazione di conti correnti quindi parlando di intestazione quindi lato finanziario non lato societario nel lato finanziario penso che il 95% dei dei conti che abbiamo su cui facendo il sostituto di imposta sia in Svizzera chiaro che il costo della vita in Svizzera è triplo quindi anche il costo delle banche tra virgolette non sarà triplo ma poco ci manca quindi la tipologia di cliente è inet o ultra inet come si dice in gergo quindi sono clienti molto molto benestanti quelli che hanno anche perché se hai 50.000 euro non ha senso avere il conto in Svizzera è più facile che ti interessi se hai 5 milioni di euro o 10 o 20 sulle società di capitale invece chiunque lo può lo può avere cioè dal mi è capitato di avere il dirigente della copp che voleva lanciare un ristorante non voleva che la copp lo sapesse per fare un esempio pratico reale e a livello di regioni invece se si può sapere ma abbastanza più al nord più al nord che non però abbastanza distribuito non è solo non è così sbilanciato come uno potrebbe pensare è sbilanciato al nord sono più anche secondo me anche per vicinità vicinanza frontaliera perché le fiduciari hanno avuto il boom dopo le leggi monti quindi lo scudo fiscale del 2009 con il quale si poteva rimpatriare fino al 2009 bene o male parecchie persone detenevano illegalmente capitali all'estero perché la Svizzera non c'era la trasmissione automatica dei dati quindi la Svizzera non comunicava al governo italiano i proprietari dei conti quindi tu li avevi là poi il problema è andare a prenderli perché sono là però moltissimi che avevano fatto affare in passato incassavano i corrispettivi in Svizzera e poi li lasciavano lì sai non ci paghi il 26% di plus valenza sono soldoni anche se la banca Svizzera ti costa di più il 26% quando incassi qualche centinaia di migliaia di euro su plus valenza ti fa la differenza quindi secondo me più per vicinanza territoriale la maggior parte è clientela del nord Italia perché moltissimi sono quelli che avevano capitali all'estero legalmente con lo scudo fiscale con la volontaria disclosure hanno riportato i capitali in Italia e come mai dici che è una cosa che esiste solo in Italia questa della fiduciaria o quasi solo in Italia hai detto e non in altri paesi perché che io sappia non c'è nessuno stato che consenta di detenere il conto all'estero utilizzando un una struttura una struttura terza che ti consenta di evitare la dichiarazione dei redditi cioè che io sappia all'estero lo inserisci in dichiarazione dei redditi se hai un conto all'estero non puoi utilizzare una fiduciaria che ti fa da sostituto di imposta se non sbaglio è così Francia Germania e Spagna sono abbastanza sicuro sia così Stati Uniti pure e Stati Uniti pure buongiorno a tutti scusatemi ma io proprio c'ho la passione deve essere ti ho sentito eh Lawrence cioè quelli che hanno problemi di computer sarebbero dei boomers hai detto io sono un po' un boomer ho dei problemi con giovanotto lavoravo su una stazione Unix che tu non eri ancora nato il problema è che li spasso tutti qui sono io sto facendo questo sto facendo l'ecologico ma proprio avevo utilizzato una bottiglia di plastica per l'acqua adesso ne riduco il volume come da manuale ma scusiamo ma mica ho detto che tutti i boomer hanno problemi come no è un'implicazione ho detto che tutti quelli che hanno problemi di computer sono boomer ho sentito dire loro scusatemi sono un po' boomer ma è ben diverso è un sotto insieme tutti quelli che hanno problemi di computer sono boomer se fossero sotto insieme avrebbe detto sono uno di quei giovani che sembrano alcuni di quei boomer buongiorno a tutti e mi scuso di nuovo per il ritardo sono riuscito a mantenere l'1 e 30 l'1 e 30 7 e 30 vostri allora ho sentito le domande sono tentatissimo ovviamente a modo mio sono abbenti a lista nei limiti del ragione faccio il possibile fare l'impossibile come ho cercato di spiegare tante volte è dannoso quindi io cerco di fare il possibile cosa volevo dire quella della Cambridge controversi miti tilla la papilla anche perché se per caso c'è in rete qualcuno che ci sta ascoltando dei miei studenti del corso di storia del pensiero economico che sto insegnando proprio qua quelli americani mi stanno un po' deludendo glielo dico quest'anno di solito erano un po' più brillanti tratto ecco parentesi consenso unanime di almeno 50 colleghi interpellati in questo mese a WashU la didattica a distanza per quanto ci riguarda fa schifo e credo che i studenti siano tutti a correre ridateci le aule ridateci il puzzone ridateci io ormai sono alla quarta classe insegnata a distanza in un anno o di lettura quinta e francamente è un disastro cioè io spero che altre cose sono sicuro che si possono fare a distanza faccio ricerca a distanza da 30 anni 35 ma insegnare specialmente a giovani universitari è deludente faticoso frustrante cioè c'ha di tutto sì sì fa schifo quindi bisognerà ritornare al più presto al punto di partenza alle cose precedenti e quel poco che avremmo imparato ecco le ore di ricevimento come questa si possono fare invece così come stiamo facendo noi e quindi dicevo ero tentatissimo di parlare delle Cambridge controversies infatti appena arrivato in ufficio prima di accendere sono andato a prendere la mia copia di questo comprata in Italia nel 75 di sicuro nessuno di voi era nato c'è la mia firma c'è scritto 75 ho sempre avuto l'abitudine di guarda che secchione va che secchione va che secchione va che secchione fin da piccolo e poi invece ti ho sentito nominare alcuni di protagonisti in realtà i grandi nomi non furono protagonisti furono i sobillatori la discussione è vera è vero che Samuels disse una cazzata tremenda e non mi ricordo se era Levari Oliviatan decisero che lo provavano una cazzata riuscirono a provare un teorema che era falso anche perché contraddiceva una banalità e cioè che i polinomi di grado N no? è difficile che abbiano sempre solo una radice reale no? voi conoscete un teorema che dice un polinomi di grado N un generico polinomi di grado N ha sempre e solo una radice reale sti cazzi direbbe qualcuno e quindi fu gioco facile per alcuni smontarlo il vero eroe nel senso che quello che produsse per primo il controesempio fu questo signore qua che è un uomo molto intelligente e che avrebbe potuto fare molto di più secondo me però per ragioni ideologiche credo sia andato in pensione da poco a Milano questo è un bel libro e visto che vi divertite e gira sta storia di Raghi questo libro lo comprai per prendere il corso di economia matematica di Mario Draghi ok? l'avevo preso un po' prima perché me l'aveva consigliato non mi ricordo chi diavolo di comprarlo questo è proprio da secchione non c'è pagina che non sia consumata e in realtà l'uomo che provò che la congettura l'affermazione insomma la fantasia di Paul Summerson era erronea fra proprio Luigi Pasinetti altri che a contribuirono furono Pierangelo Garegnani anche spaventa un pochino poi ci scocciò perché in realtà la controversia cosiddetta di Cambridge magari un giorno ne parliamo seriamente infatti tempo fa avevo pensato poi gli avevo anche scritto ci eravamo scritti e ci andava di farlo adesso se trovo il tempo lo rifaccio di farne una discussione con Marco Lippi che è un signore un professore di economia e statistica italiano qualche anno più di me ma neanche tanti che ha scritto un bel libro su Marx ponendo poi in ordine alcune questioni che hanno a che fare con la seguita teoria problema della trasformazione e che credo abbia opinioni diverse dalle mie però tecniche capace di discutere sulla rilevanza di questa controversia la mia opinione la rilevanza della controversia è vicina a zero per la teoria economica non ha contribuito nulla alla teoria economica e questo l'ho capito quando sono andato a Rochester abbastanza preso dagli studi e dagli studi veneziani dove invece c'era scusi prof lo interrompo se posso ma non è a questa controversia che si deve il modello solo Swan no allora vi faccio un breve sommario se vi interessa è proprio storia del pensiero economico se c'è una cosa che conosco abbastanza bene once upon a time c'era il modello di Arodomo e cioè la teoria economica che esce dalla seconda guerra mondiale ha alle spalle cosa ha per quanto riguarda i sistemi di mercato la grande depressione americana in Europa ha robe miste però nelle robe miste americane tutti scusate europee tutti ci vedono l'intervento salvatore dello stato addirittura del fascismo nel caso italiano tedesco nazismo come lo vogliate chiamare ed ha inoltre una visione abbastanza mitologica che poi però ci si mise a vent'anni a rendersi conto che tale era delle economie pianificate del cosiddetto est che a quel tempo poi era solo la Russia che diventava Ursa e si mangiava un pezzettino dei paesi che poi divennero succubi sotto il nome di patto di Varsavia il mondo diciamo keynesiano più socialistoide Cambridge UK vedeva in tutto questo la prova che il sistema di mercato non produce crescita produce crisi continua instabilità e che quindi va assolutamente guidato dalla mano salvifica dello Stato perché altrimenti produce ora da un lato c'è tutto quel dibattito che probabilmente avete sentito Hayek che scrive che scrive i suoi vari libri mi ricordo che più il titolo di quello che ha scritto agli anni 40 cos'è Road to Serdom perché li confondo sempre con i titoli i due Road to Serdom e quell'altro mamma mia la prova che sto diventando vecchio c'è un altro libro voi tre perché non mi aiutate Farah Conceit non mi ricordo quale dei due è quello scritto in quegli anni lì se il De Farah Conceit or Road to Serdom provate Road to Serdom sì Road to Serdom quindi c'è quel dibattito che è più generale e poi c'è un dibattito specifico più tecnico su come funziona la crescita in un'economia capitalista ok o in un'economia di mercato meglio se non stare il capitalista che anche io mi faccio influenzare da una brutta terminologia perché era capitalista anche l'economia veneziana nel 1200 me l'hanno chiamata vorrei avere accanto a Rovic e Strumili sulla allocazione risorse Camillo Sienfio Egos spero che ti potessi inventare ero troppo iido non è che sia una roba più interessante è abbastanza noioso però se proprio necessario magari un giorno ne parliamo di Cantorovic però andiamo avanti se non finisco più che avevo deciso a Rodomar allora questi qua se ne escono con un modello che non ve lo sto a spiegare però lo trovate spiegato abbastanza bene su Wikipedia dunque lasciate che ve lo dica io lo dico continuamente in Italia c'è una tendenza da liceo classico di fare ironia su chi studia su Wikipedia io invece consiglio tutti i principianti o chi non è particolarmente esperto quando ha un tema che non conosce guardarsi la pagina di Wikipedia in inglese leggersela attentamente guardarsi le notte e poi da lì andare avanti perché sono fatte invece molto bene non solo perché ho contribuito anch'io sulle cose che so ma perché ho anche scoperto che sulle cose che non so no no era Rod su Sir Tom Damian Heller sulle cose che non so e poi vado magari dall'esperto a dirgli ma sta roba è vera mi dice sì è fatta con grande attenzione ok su che ne so la peritonite della zia Marisa magari no perché su Wikipedia c'è anche gossip c'è un po' di tutto ma sulle cose che hanno a che fare con campi di ricerca quella in inglese è fatta bene e sta anche molto attenta che non arrivi i soliti soggetti invece purtroppo si trovano in quelle italiane non solo che ci infilano le loro particolari opinioni argomenti ideologici critiche a questo critiche a quello quello cretino perché non piace a me e cose del genere quindi per quanto riguarda per esempio il modello di Harold Homer spiegato ragionevolmente bene sulla pagina di Wikipedia allora il modello di Harold Homer fa un'ipotesi brutale cioè che tutta che l'economia nell'aggregato questo è vero quello che diceva Lorenz Primo questi sono gli anni in cui si afferma totalmente la macroeconomia nella forma di modello aggregato un bene nell'output una forza lavoro omogenea un capitale omogeneo e tutti ne parlano non sono solo i cosiddetti neoclassici il primo che lo fa è Keynes ok il mondo di Cambridge England negli anni 30 Robertson tutta la discussione è fatta in termini di C aggregato I aggregato K aggregato Y aggregato tutto quanto insieme d'accordo e quindi tutti cominciano a parlare con questa cosa che io sono uno dei tanti devo dire che trova assolutamente deviante pericolosissima perché si può usare qualche volta ma bisogna stare molto attenti a quando la si usa il modello di Aurodomo infatti è scritto in termini di aggregato cioè K aggregato L aggregato Y aggregato e fa un'ipotesi brutale e cioè che invariabilmente il rapporto tecnologico fra capitale e lavoro nel sistema economico nelle tecnologie che si usano per produrre sia fisso chi di voi ha studiato un po' di economia ha sentito parlare del modello a coefficienti fissi che è un ottimo modello per rappresentare una data tecnologia nella produzione delle scarpe di un certo tipo a un certo punto nel tempo perché quasi tutte le tecnologie specifiche a un certo punto nel tempo sono fondamentalmente a coefficienti fissi un autista per camion con uno di aiuto un tot di litri di gasolio eccetera però che invariabilmente e nel tempo e non indipendentemente da quella che è la composizione della domanda il rapporto capitale e lavoro aggregato nella tecnologia aggregata di un paese sia fisso è una stronzata gigantesca se lo usi come ipotesi da cui poi derivi conclusioni importanti se è un'ipotesi di lavoro laterale che non influenza le conclusioni a cui stai arrivando a cui stai arrivando un altro problema va benissimo così ti risparmi tempo però se invece allora a Rodoma farò questa cosa qua e mostrano in un particolarissimo modello in cui l'offerta di lavoro di fatto cresce esogeneamente non risponde ai salari non c'è prezzo relativo di nulla che in un mondo del genere la crescita bilanciata tranquilla ce l'hai solo per caso mentre in generale hai crisi o di sovrapproduzione sovraaccumulazione se volete o di disoccupazione ok questo è attorno agli anni 40 il modello diciamo così finale di Doma all'inizio degli anni 50 sì credo 54 quello di Doma a Rodaro aveva già provato con la teoria del trade cycle un libretto scritto alla fine degli anni 30 fallimento perché provava a fare una cosa invece gli è venuta fuori un'altra Samuelson gli mostra che così non è che non sapeva la matematica del equazione delle differenze finite anche X adesso lasciamo stare i dettagli proprio della storia del pensiero se non vado troppo il punto è che questa ipotesi di instabilità viene vista con grande simpatia dal mondo Keynesian molto di sinistra che dice ah che bello visto capitalismo instabile ci vuole un po' di socialismo a quel punto inizia un dibattito e tre persone diverse James Meade in Inghilterra a Swan che aveva un primo nome il suo nome di battesimo o di non so se sia stato battezzato il suo nome non me lo ricordo più un po' un nome strano ma originale e Bob solo negli Stati Uniti più o meno contemporaneamente dicono ma guarda basta che ci sia un po' di sostituzione fra capitale e lavoro perché a seguito appunto di un accesso di domande di un lato dall'altro cambiano i prezzi oppure quando uno si rende conto che ha troppo capitale che sta usando un rapporto capitale lavoro troppo alto perché produce troppo in una certa industria gli investimenti si spostano in un altro settore che ha un rapporto capitale lavoro più basso e tutto questo problema di instabilità Traverse One grazie che tu hai messo che voi avete messo sul tavolo Harold e Domar casca quindi siccome volete parlare del lungo periodo nel breve periodo magari questo problema c'è ma nel lungo periodo l'idea che si viva sempre su una lama d'acciaio con una lama di coltello con il rischio di cadere da uno dei due lati non c'è l'argomento dei tre sono tre infatti Mid, Swan e Solo più o meno pubblicati nel 55-56 è molto forte c'è poco da fare molto forte e questi non lo conto però cosa succede? Succede che tutti e tre nel fare questo nel svolgere questo argomento utilizzano la funzione di produzione cosiddetta neoclassica sapete F di aperta parentesi K virgola L con la sostitubilità fra K e L che notare era la stessa roba che usavano Harold e Domar solo che usavano una versione molto particolare non è che loro non usassero la funzione di produzione neoclassica la funzione di produzione di Harold e Domar è concavo omogenea di grado 1 bla 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 assolutamente un caso speciale della CS quando non c'è sostitubilità fra i fattori bene allora lì la risposta comincia a venire ed è questo purtroppo che è tinta di ideologismo e di politica da entrambi i lati Cambridge UK comincia a dire sì però tutto dipende dalla vostra fottuta produzione funzione di produzione aggregata che è una che nella realtà non esiste perché pensate che potete misurare la quantità di capitale che esiste in un'economia indipendentemente dal livello dei prezzi relativi che è determinato il tipo di tecnologie che si utilizzano Cambridge Massachusetts si incapponesce sia solo che Samuelson dice no ma va bene è un'ottima approssimazione e qui casca l'asino l'asino dove casca casca in questo che a un certo punto la questione si sposta da crescita bilanciata o meno instabilità cicli crisi alla distribuzione del reddito cioè rivela un po' di più il suo aspetto politico e nel spostarsi alla distribuzione del reddito il mondo diciamo MIT Cambridge dice a mio avviso erroneamente anzi non a mio avviso erroneamente punto che il tutto è risolto e spiegato dalle produttività marginali cioè se vuoi capire la frazione di reddito nazionale che va al fattore lavoro tu prendi la produttività marginale del lavoro la moltiplichi per la quantità di lavoro e la dividi per il totale prodotto e ottieni quella quantità se vuoi capire quella del capitale prendi la produttività marginale del capitale eccetera eccetera stessa roba gli rispondono a mio avviso correttamente da Cambridge England ciccia boom perché stai facendo finta che la tua quantità di capitale che la devi misurare in termini reali con prezzi relativi rispetto a un paniere di beni che è quello dell'output sia invariante ai prezzi e questo non è corretto in generale se tu passi dalla tua rappresentazione metaforica con la funzione di produzione aggregata ha una rappresentazione disaggregata dell'economia con molti settori molte attività fino a un numero potenzialmente altissimo per cui ogni singola attività ogni singolo bene ha la sua effettivamente funzione di produzione e coefficienti fissi che lo produce in realtà quello che questi tirano fuori e che è la cosa un po' buffa ma questo lo faremo davvero con Marco Lippi anche di tutto questo can can attorno a Sraffa un vecchio modello che a mio avviso è uno dei più belli e dura nel tempo di John Von Neum ha fatto negli anni 30 Von Neum aveva in mente un altro problema risolvere un problema di punto fisso che è il modello di rappresentazione non di teoria ma di rappresentazione del processo di crescita carino semplice e completo e che non soffre di questi difetti allora a questa cosa di Cambridge UK Cambridge Massachusetts fa un ulteriore errore dice ma no ma intanto la distribuzione del reddito fra i due fattori segue comunque la regola della funzione di produzione aggregata ecco a casco all'asino e cioè Samuels se ne esce questa puttanata della surrogate production function sbaglia proprio sbaglia matematica io ho le prove che glielo dissero i suoi colleghi più saggi cioè proprio sia Ken Harrow che Lionel McKenzie gli dissero guarda che è sbagliato e stai perdendo tempo su una questione assolutamente irrelevante perché c'hai un ego che è inversamente proporzionale alla tua altezza sei anche innamorato di John Robinson che non ti caga e vuoi vincerla a tutti i costi non sto scherzando ok e Samuels se ne esce questa cosa della surrogate production function che fa veramente ridere per cui dice ma non è vero anche in un'economia con n beni dove n è un miliardo e con tutte le possibili varietà di tecnologie che producono i beni è sempre vero che all'aumentare dell'intensità capitale lavoro aumenta utilizzata aumenta il rapporto fra saggio di salario e saggio di rendimento capitale e viceversa quando i prezzi del salario quando i prezzi relativi quindi il rapporto salario rendimento di capitale cresce si utilizzeranno tecnologie con una maggiore intensità di capitale cioè dice è sempre vero anche nel modello matematico che se il prezzo relativo del fattore lavoro che tratta come omogeneo cresce rispetto al prezzo relativo del fattore capitale aggregato la tecnologia ottima da utilizzare sarà una tecnologia che utilizza più capitale e meno lavoro ecco questa proposizione è falsa in generale e Pasinetti lo prova ok lei casca l'asino va avanti un po' Garegnani ci aggiunge Samuels finalmente cede perché aveva fatto pubblicare il micro c'era anche lui come coautore se lo vado a cercare perché è roba vecchia un paper su QGI che addirittura provava questo suo teorema falso ovviamente a Cambridge UK dichiarano vittoria festeggiano champagne e caviale per un tot nel 66 i cambrigiani MIT decidono di pubblicare un volume speciale del corte di giorno che è il loro giornale tutto dedicato a questa cosa nel quale Samuelsson ammette l'errore gli altri mostrano i loro esempi di chi è il quarter journal economics il quarter journal economics è il giornale di casa dell MIT Harvard esattamente come il giornale politica economica il giornale di casa di Chicago l'università del dipartimento di Chicago il QGI è il giornale di casa di MIT anzi più Harvard che MIT è il loro giornale il giornale di casa di Cambridge Massachusetts un po' come Ristad era il giornale di casa di LSI adesso è diventato invece più aperto cioè è gestito da una da una specie di gruppo mobile di un'associazione che raccoglie parecchi dipartimenti europei ma non mi far deviare perché già sta roba è lunga sono molto interessato AR invece di chi è è il giornale dell'america economic association cioè dell'intera associazione l'econometrica è il giornale dell'econometric society vabbè insomma sto punto viene risolto a torto Sammerson avevano perfettamente ragione i cambigiani che il punto è che non conta un cazzo ecco e qui mi fermo questa roba è di una irrilevanza totale e poi si scatenano purtroppo in tutto questo forse perché Sraffa era italiano paginetti italiano si crea una scuola in Italia nota come Neoricardiani che da 60 anni predicano che loro hanno fatto la critica del modello neoclassico del modello equilibrio economico generale incoerente non regge e invece questa francamente sono disposto io l'ho offerto a più di uno negli anni sia io che altri di dibatterlo tranquillamente non l'hanno mai voluto fare e questo non è vero tant'è che tanto per dire il vero modello di equilibrio economico generale quello che purtroppo né solo né Samuels né nessuno di costoro ha apprezzato a fondo lo ha capito lo ha utilizzato non ha assolutamente questo tipo di problemi anche perché l'affermazione che c'è una relazione monotona fra quantità di capitale comunque la misuri e saggio di salario rispetto al tasso di rendimento capitale è oltre che falsa irrilevante e qui stiamo parlando di teorie ragazzi stiamo parlando di teorie cioè questo è proprio pura teoria se poi qualcuno vuole parlare della realtà parliamo della realtà questi sono schemi di analisi che uno può decidere di utilizzare o meno però per il momento siamo a livello di schemi di analisi modelli di analisi modelli interpretativi di cui vuoi verificare la coerenza prima di usarli e vuoi verificare anche che implicazioni hanno quindi la controversia su Cambridge per farla finita oggi è stata interessante divertente piuttosto inutile l'ultima raccomandazione in Italia per molto tempo e anch'io si fece leggere questo libro per cercare di capire che è scritto da un credo australiano molto divertente ma che probabilmente non aveva capito niente a leggere il libro si diventa matti io da bomona come vedete anche questo me lo comprai e è uno di quei libri che finché non ti studi la matematica e l'economia del problema da solo e la capisci da solo ti fanno sentire deficiente per tutta la vita testi di riferimento testi di riferimento non bias Franco Colacrae nessuno cioè o ti leggi tutti i paper tecnici e però ti leggi anche contemporaneamente cos'è un modello di crescita alla von Neumann cos'è puoi leggerti le cose che ho fatto io tanto per capirsi su cui ho fatto la reattesa i PCD tutti i miei primi paper quindi capisci cos'è un modello o ti leggi il capitolo di Lionel sul Handbook of Mathematical Economics che si chiama Turnpike Theory oppure ti leggi il capitolo di Lionel sul Palgrave o vai letteralmente alla radice e vai a leggerti e vai a leggerti Nikkaido però insomma è pesante insomma non è roba da salotto se vuoi farla bene è roba che richiede un minimo di conoscenza tecnica dell'economia della matematica è teoria cioè proprio teoria economica allo stato puro quindi non è che ci siano dei manuali che te lo raccontano infatti questo signor Jeffrey Harcourt ci provò sull'onda del fatto che era una cosa molto popolare in quegli anni in Italia in India e in Australia cercò di scrivere un libro a metà fra il divertente e il popolare e il risultato è che tu leggi il libro e ti senti completamente deficiente anni dopo capisci come funziona riesci a gestirlo e dici ah vabbè cazzo è lui che non lo sapeva spiegare perché perché non è una cosa spiegabile in 448 io l'ho volgarizzata in questo 20 minuti a livelli però penso di aver per il momento risposto a quella domanda perché se volete veniamo alle altre che le ho sentite allora quella sulla disuguaglianza Lorenzo non te la prendere allora non è vero che non usare il tè è una l'ipotesi di Kuznets che non è più proprio una legge lui speravalo fosse ma purtroppo è una fantasia è un'ipotesi lui fece un'ipotesi e disse ma secondo me a occhio quello che succede è che c'è poca disuguaglianza quando un paese poverissimo perché tanto se la misura con l'indice di Gini anche se è vero che un po' di landlord controllano tutta la terra del paese 97% fanno i contadini guadagnano tutti pochissimo quindi la disuguaglianza è bassa d'accordo? però poi è chiaro da quello che vedo che sono i processi di industrializzazione all'inizio ad alcuni va benissimo altri va male in particolare siccome i processi di industrializzazione implicano urbanizzazione e danno vita a un processo di movimento dalle campagne alle città o alle zone industriali che non può avvenire in un istante e che prosegue nel tempo basta guardare la Cina che è a metà strada praticamente o basta guardare l'Italia agli anni 50 allora nella fase intermedia la disuguaglianza cresce se non altro perché hai persone nel mondo che abbiamo industrializzato urbanizzato i salari sono cresciuti oltre all'aumentare di alcuni profitti dei profitti nel settore dei proprietari delle aziende industriali mentre il settore arretrato dell'agricoltura rimane povero ora questo non è vero sempre tratto perché molte volte il processo di industrializzazione si accompagna a una rapida crescita della produttiva nel settore dell'agricoltura ma facciamo stare comunque dice allora lì nella fase intermedia vedremo una crescita della disuguaglianza poi siccome queste cose le diceva in una fase in cui la disuguaglianza nei paesi avanzati era il suo minimo storico anni cinquanta circa dice poi però quando prosegue la crescita quando c'è un'urbanizzazione semicompleta quindi nel settore agricolo rimane relativamente poca gente e comunque hanno una priorità alta per cui i loro redditi sono cresciuti cosa avremmo dovuto aggiungere ma era un po' in anticipo poi comunque li sussidiamo perché vogliamo tenerci i campi la disuguaglianza cala allora questa è un'ipotesi io come suggerimento didattico consiglio di chiamarla U inversa e non gaussiana la gaussiana non è U inversa fai confuso no 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 ok è puramente perché ho capito cosa avevi in mente tu però il problema che poi uno ci casca ciò che caratterizza la gaussiana sono le code e qui non ci sono le code ok è proprio una U l'idea sua allora su questo c'è una lettera io ormai ho visto che ci sono i meme che mi prendono in giro Boldrin che dice su questo c'è una vasta letteratura e vabbè su questo c'è una vastissima letteratura non so che cazzo dirvi chiamatela come volete su questo hanno scritto tonnellate di stronzate va bene per me va bene anche così basta capirsi quindi come al solito in tutte queste questioni in cui uno vuole cercare delle leggi invarianti nel tempo e in economia il 97,3% ascoltate questa percentuale esatta delle volte non ci sono ok meglio detto qualcuna c'è in generale per esempio le funzioni di domanda slopes down se aumenti il prezzo calerà domanda ma anche lì sappiamo che ci sono dei controesempi quando uno vuole inventarsi come è successo a Kuznets delle specie di regole universali della storia umana che valgono a tutti i tempi tutti i paesi cicciabù tipicamente lo fa sulla base di alcune osservazioni è quello uno dei drammi ed è un brutto vizio di molti economisti applicati non solo economisti sociologi studiosi di scienze sociali tu vivi in un certo periodo c'hai certi dati osservi un fenomeno ti sembra chiaro ok ed è anche magari chiaro in quel periodo e ti inventi che è una legge universale perché così c'è la legge col tuo nome è appena detto una cazzata truculenta e Kuznets ha detto una cazzata truculenta non è vera quella roba lì punto fine nel senso che c'è la famosa letteratura empirica che negli anni è andata a verificare paese per paese episodi di crisi per crisi e hai un po' di tutto per carità poi ci sono quelli devoti che hanno cercato di inventarsi mille controlli per farla riemergere comunque ma se volete ci dedichiamo anche questo sì io adesso faccio una formazione napodittica da Ips e Dixit però sono disposto a difendere con i fatti il fatto che la legge l'ipotesi di Kuznets è un'ipotesi non realizzata nei fatti globali del mondo è realizzata in alcuni paesi assolutamente è totalmente affarsi in altri assolutamente quindi non è una legge è una cosa che può succedere in date circostanze in certi paesi può succedere no? ma non c'è nulla nel processo di sviluppo economico sia esso totalmente di mercato sia esso semisocialista sia esso metà metà che implichi che la disuguaglianza prima cresce poi cala ciò che affetta che influenza particolare è semisurata con l'indice di Gini ciò che influenza l'andamento dell'indice di Gini appare che poi c'è confusione fra reddito e ricchezza ciò che influenza dell'indice di Gini è una serie di cose molto più complicate del livello di sviluppo insomma del livello di GMP la descrizione che dava Lorenz prima era perfettamente corretta del livello di GMP cioè metterla lì l'IGMP sull'asse delle X e dire questo spiega la disuguaglianza vuol dire che stai dicendo una cazzata non è vero quindi quindi non è scusate non è per niente una legge è un fatto anche interessante nel senso che i fattori che muovono la disuguaglianza sono più complessi e poi dipende appunto come la misuri che ambito ti dai questa osservazione che abbiamo fatto e continuiamo a fare da 30 anni che chi fa ricerca della crescita della disuguaglianza dei redditi e delle ricchezze nel mondo chiamiamolo occidentale avanzato se ne era reso conto a fin anni 70 inizio anni 80 non è che abbiamo aspettato che lo dicessero i giornali all'inizio infatti si era concentrato su quello che viene chiamato il college primo che a mio avviso è ancora il fattore chiave anche se non è tanto il college che conta e siamo perfettamente consapevoli che non c'è un fattore semplice crescita del reddito ma non c'è neanche un fattore semplice del tipo intensità di capitale che lo spiega non c'è neanche un fattore semplice di commercio internazionale ci sono svariate elementi che concorrono e senz'altro è aumentata in parecchi paesi avanzati però è diminuita a livello mondiale non c'è alcun dubbio che se uno prende gli indici di diseguaglianza misurati fra paesi a livello mondiale questa si è diminuita però comunque la domanda era su Kuznets per cui mi fermo lì va bene? sono socchi di loro tre perché questo non lo vedevo io vi ascoltavo la domanda non era su Kuznets io ho tirato fuori io Kuznets perché dovevo dire qualcosa dovevo il signalling e se cavolate no? mi sembra che la domanda fosse di Tommaso no? che sono intervenuto con questo è vero? sì ha già risposto dimmela tu più precisamente ha già risposto un po' innanzitutto grazie comunque la domanda era se la diseguaglianza stesse aumentando e se ci fosse una differenza tra paesi avanzati e paesi in via di sviluppo come ad esempio sostiene una una grande filosofia dell'economia capeggiata da Picchetti suppongo col suo capitale nel ventunesimo secolo se fossero corrette le le conclusioni a cui giunge il libro di Picchetti e appunto se lo Stato poi mi rifaccio anche la domanda ovvero sfocia nella domanda che ha fatto Matteo che è cosa dovrebbe fare lo Stato è giusto che intervenga per diminuire queste diseguaglianze fino a che punto però non voglio rubare la domanda a Matteo è un po' una domanda ah c'è due c'è due parti allora prego prego vedo se riesco a metterle insieme perché sono di queste domande gigantesche per cui proponiamo sì la mia la mia domanda era diciamo perché si sente spessissimo almeno io sento spessissimo dire da politici o chiunque che la che l'obiettivo cioè che la la diseguaglianza di ricchezza sia sia ciò che su cui bisogna intervenire sia intrinsecamente eticamente sbagliata e ragionando da da profano proprio dell'economia proprio a livello logico mi chiedo se sia effettivamente così che cioè che sia proprio intrinseco nella la diseguaglianza stessa la sua non essere non essere una cosa da combattere o se invece come mi sembra l'obiettivo di non so di un governo di qualsiasi ente che possa intervenire su questo debba essere quello di assicurare a chi ha la long tail di quelli diciamo di chi arriva a malapena a fine mese un continuo miglioramento delle condizioni di vita e se questo sia correlato col fatto di diminuire la diseguaglianza o se invece sia ortogonale a questo nel senso non capisco esattamente ma probabilmente magari anche la risposta è banale non lo so la perché si pone sempre solo l'accento sulla diseguaglianza la necessità di diminuirla quando invece mi sembra che la vera la questione sia come come miglioriamo la la qualità di vita di chi di ricchezza ne ha di meno e fare in modo che la vita possa essere dignitosa per quella appunto long tail di persone anche se esiste il 10% di persone che magari ha centinaia di milioni di dollari o miliardi oddio se fosse il 10% che avevano centinaia di milioni di dollari wow dimmi dov'è che mi ci scrivo vengo anch'io vengo anch'io no tu no perché ce ne sono meno per me secondo la teoria di questi allora io faccio una cosa a questa ultima domanda non ti no Giuseppe se voglio non ti consiglio di leggere i libri di John Galbraith a meno che tu non voglia divertirti per divertire si vanno bene allora la seconda parte della domanda onestamente evito di rispondere devo dire che non ho la mia opinione perché è un argomento politico etico morale ed è estremamente complicato perché poi dipende da paese in modo di cercare delle leggi generali stranamente queste domande hanno tutte a che fare con cose che ho insegnato ultimamente in classe in un'altra sono insegnato le mie due classi annuali in contemporanea in parallelo in cui insegno metodi e criteri di scelta di politica economica ho cercato di spiegare la teoria della giustizia e i Rawls e le varie teorie della giustizia che sono quasi tutti tipo distributivo e il punto che tu fai è il punto chiave la disuguaglianza per sé è causata o è causa di maggiore o minore crescita aggregata ci hanno provato in tanti a teorizzarlo e a mio avviso sono tutti fallito perché non c'è alcuna evidenza robusta che dica più disuguaglianza hai più crescita hai o viceversa la disuguaglianza crescente è un correlato un prezzo della crescita ma neanche dall'altro lato non è neanche vero che maggior disuguaglianza aumenti la crescita o la riduca se lo fa e questo sul puro piano delle logiche strettamente economiche incentivi scelte di tecnologie prezzi investimenti queste cose qua poi ovviamente c'è un lato del nostro umano che ha a che fare con la politica e cioè col fatto che anch'essa a mio avviso è una dimensione dal mio punto di vista dello studio economico e cioè che gli agenti sociali non agiscono solo anonimamente sui mercati non a caso gli economisti da sempre si può con il problema dell'azione collettiva io accetto sempre Mansur Olson un po' perché mi era simpaticissimo eravamo amici ma un po' perché uno questo problema ci aveva pensato seriamente rendendosi conto di quanto complesso era e nell'azione collettiva quando ci sono delle cose che esistono sul puro piano economico che non ci piacciono decidiamo di intervenire e non è che interveniamo necessariamente nella forma dello Stato che programma a volte interveniamo con movimento sindacale con scelte nostre di andarcene altrove tanto per capirci faccio un esempio dall'altro lato è palese che in Italia da 30 anni a sta parte e tantissimo negli ultimi 15 molta gioventù e non solo gioventù capace ambiziosa e che ritiene di dover guadagnare e di avere dei benefici più alti per quello che fa se ne va e se ne va a rovescio se ne va perché non riceve abbastanza perché in un certo senso dal loro punto di vista c'è troppa uguaglianza perché il sistema non gli permette di arricchirsi sono degli stronzi con la bava alla bocca rapaci non lo so alcuni che ha incontrato mi sembra persone simpaticissime gradevolissime estremamente umane quindi la maniera in cui si risponde a questi meccanismi che creano uguaglianza o disuguaglianza è molto complessa e a mio avviso che so chi emigra fa un atto economico perché sta spostando la sua offerta di lavoro ad un altro lato giusto però puoi vederlo anche come un atto politico ripeto a quel livello lì decidere cosa è giusto cosa non è giusto diventa soggettivo capisci io non so che lavoro tu faccia io so se prendo il punto di vista mio che so il punto di vista di persone che sono mio figlio ok che ha una certa età probabilmente maggiore della tua ha una certa professionalità eccetera a me non ritengo che certi livelli di disuguaglianza corrispondano a incentivi producano incentivi adeguati a persone capaci di farsi il mazzo è vero che se prendo altro punto di vista che quello non quello di mio figlio mi viene da dire oh no è solo perché sono sfortunato dipende non mi voglio muovere come tutti sanno io sono cresciuto fra i 10 e i 25 a Campalto non mi voglio muovere da Campalto comune di Venezia quartiere sulla laguna ok e quindi voglio avere un reddito degno qua non so figlio mio dipende quindi entriamo in un insieme di ragionamenti che preferisco evitare per quanto riguarda invece la parte più analitica pichetti ha torto continuo a dirlo cioè proprio ha torto sui fatti infatti non se lo caga più nessuno nella professione perché perché esistono due questioni nessuno mette in dubbio che ci sia stato un aumento degli indici di disuguaglianza fra persone ok quello è ripeto cioè cazzo Goldin ben prima tanto pichetti era ancora in grave ognuno non c'era ancora andato e io ero uscito da poco anzi direi i primi paper quando c'entravo perché me li hanno mostrati che ero Walter Roy quando ero prendendo il suo corso ero secondo anno erano 84 era un working paper e la gente aveva notato che c'era un ampliarsi della forbice salariale fra persone che avevano fra laureati diciamo e non laureati gente con master e che nel mondo degli executive cioè dell'alto management c'era una crescita delle compensazioni ok e che questo stava producendo differenziali notevoli già allora di disuguaglianza salariale ok a questo poi ci sono aggiunti fenomeni di arricchimento dovuti a buoni investimenti capital gains per dire i simboli che tutti conoscono i mille Zuckerberg di questo mondo ok che non è solo Zuckerberg cioè i mille Zuckerberg o i mille Messi perché se voi fate chissà perché poi c'è tutto un altro argomento che un giorno vorrei discutere che è di perché siamo assolutamente incazzati con le ricchezze di Zuckerberg e non siamo incazzati con le ricchezze di Messi o del cantante della cantante di moda dell'attrice o della modella famosa allora se voi prendete il rapporto fra lo stipendio medio di Messi o del calciatore famoso del Madrid dell'Inter del Barcelona di quello che volete voi del Manchester United o del giocatore di palacanestro di NBA di uno di questi e dei suoi spettatori quelli che pagano il biglietto o di quelli che lo guardano voi vedrete che quel rapporto è cresciuto anche quello è un inizio di disuguaglianza non è solo quello fra l'amministratore delegato della FCA e l'operaio specializzato medio dipendente della FCA di quello nessuno si preoccupa io non sto dicendo che bisogna preoccuparsi sto notando degli aspetti quindi questo aspetto di crescita di queste disuguaglianze del fatto che persone che avevano successo in un ambiente o nell'altro cominciavano a guadagnare progressivamente dalla seconda metà alla fine degli anni 70 inizio degli anni 80 molto di più che altri che quindi questo divario si ampliava è ben noto il punto di Pichetti non è quello il punto di Pichetti è di fare una faccenda molto specifica molto semplice molto politica che dice è perché i capitalisti guadagnano di più è perché la quota di reddito che va al capitale è cresciuta perché questa è la legge del carcere se fa allora disclaimer anche se se ci vediamo litighiamo perché siamo diventati reciprocamente antipatici io conosco Tomas da quando era studente e per un periodo siamo anche andati molto d'accordo Tomas è molto bellicoso è anche molto intelligente molto ambizioso molto di sinistra io no diciamo che abbiamo due stili diversi proveniamo anche da classi sociali molto diverse la mia è molto umile e molto povera la sua è esattamente l'opposto dall'estremo opposto e quindi molto probabilmente ripeto se ci sbattiamo addosso di nuovo cosa che non succede da una decina d'anni ci mandiamo reciprocamente a fare il culo però a torto nel senso che si è inventato si è fatto la pipa sempre sognato di essere Carlo Marx è un bell'uomo molto intelligente ha un savoir-faire notevole grande classe parigina di grande scuola e ha venduto molto bene questo suo essere ma sono balle la balla è nota a chi fa economia a chi fosse interessato io da parecchio tempo insisto e non a caso è stato bloccato per anni grazie a Dio finalmente economica che l'ha pubblicato un paper di una studentessa mia un junior colleague mio che ho seguito per anni Raul Santeria Santa Eulalia Ioppis Yu Zeng e il terzo autore poverino me lo scordo sempre che mostra che i dati di Pichetti sono calcolati male se tu li calcoli attentamente cosa scopri? scopri che in realtà il rapporto capitale-lavoro nella distribuzione del reddito non è cambiato per niente è praticamente lo stesso oggi di quello che era negli anni 60 e 70 che quello che lui mostra e che altri sono confusi è dovuto a cambi nella classificazione di National Income Accounting di certe fonti di reddito la faccio molto brutale e semplificata un po' più sofisticata ma il messaggio credetemi è questo anzi è più forte di questo per cui nel semplificarlo lo lo annacuo e che infatti il vero mistero da studiare o non è un mistero il vero meccanismo da capire è il fatto che persone che producono un certo tipo di beni e servizi fondamentalmente tutto ciò che se volete è informazione o informazione per l'organizzazione della produzione quindi dal software a marketing a gestione legale proprietà intellettuale eccetera eccetera negli ultimi trent'anni ha aumentato il potere di mercato sia all'interno dei paesi sia perché queste persone sono estremamente globalizzate e quindi disposte a lavorare non gli interessa molto dove stare possono lavorare a Hong Kong come a Silicon Valley come a Parigi come a Benevento ok e la la fetta di reddito che va a questo tipo di persone che producono una certa classe di beni è cresciuta enormemente questo assieme al fatto che sono anche accresciuti fortemente i guadagni in conto capitale di innovatori ok questo è il vero fenomeno che ha creato la disuguaglianza quindi sì la disuguaglianza c'è è crescente ok se è tantissima insopportabile o se è sopportabile non lo so perché è un giudizio morale e politico credo francamente dipenda da paese a paese ok se la maniera per ridurla sia tassare e redistribuire come alcuni sostengono non lo so ma propendo per il no perché tutte le esperienze che ho davanti tutto quello che so di come funziona dice che no che così non funziona che è un processo che è un effetto del cambio tecnologico avvenuto sì ma che centri di per sé col capitalismo col capitale eccetera no perché l'evidenza non è così l'evidenza dice che su quello su questo semplice rapporto causale che ti si è diventato che mi rendo conto come al solito è il populismo il populismo ha questa grande dota prendi un problema complesso lo riduci a termini standard che la gente capisce il volo no capitalisti cattivi tutti gli altri buoni proletarizzazione ci stanno espropriando il nostro lavoro bisogna riprendere soltanto bellissimo hai risolto tutto questo lo capisce chiunque ovviamente rende felice il 90% perché il 90% non è Bezos o Zuckerberg tutti pensano se porto via le azioni di Bezos divento ricco anch'io sei diventato famoso vendi alcuni milioni di libri sei fighissimo peccato che non hai risolto un beato cazzo ma quella è la parte politica la parte tecnica è quella che ho detto se qualcuno pensa che mi sbaglio io sono qua i numeri sono disposto anche a passarmi cinque ore a guardare i numeri siccome lo faccio da 25 anni credo di conoscerli piuttosto bene no no io la ringrazio sono anche d'accordo con lei nel senso che avevo letto qualcosa già non degli studenti che lei ha detto però che mettevano in luce gli errori nei calcoli di pichetti l'unica cosa su cui secondo me potrebbe avere un po' di ragione ma è un caso italiano è che infatti siamo considerati tali a livello europeo che siamo un paradiso fiscale per quanto riguarda l'imposta di successione questa è stata una manovra fatta da Berlusconi che secondo me invece sarebbe più meritocratico abbassare le imposte sul reddito e alzare quelle sulla successione che in Italia sono al 3% infatti i francesi vengono a morire in Italia per non pagare il 50 o 60% che c'è da loro sì però questo è un po' una questione completamente diversa capisci se voi discutiamo anche di queste questioni qua però questo c'entra molto poco questo problema non ti pare no no sì sì solo che lui dedica un capitolo nel libro e quella mi sembrava abbastanza interessante come cosa dedica un capitolo all'imposta di successione allora il problema dell'imposta di successione sì ma anche lì le simple solutions non è che reggono così tanto è una vecchia posizione tra l'altro ultra libertaria ultra super liberali di liberali con 14b che bisogna che bisogna portargli via tutto però capisci Tommaso per carità possiamo ragionare su quello qui esuliamo un po' dall'economia in quanto no 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 volevo solo fare non volevo hai ragione che ci sia un problema di imposte di successione che ci sia un problema però allora faccio un passiero dov'è il problema il problema è a livello di invidia sociale e ce l'ho avuto anch'io essendo nato povero da fare schifo ok che non avevo il cesso in casa tanto per capirsi ok non avevo fino a quando ho avuto dieci anni ovviamente andando a scuola e vedendo anche solo i figli e gli impiegati che vivevano un po' più là avevano un appartamento io desideravo appunto l'imposta di successione ok allora questo sentimento questo come dire o questo non lo so reazioni io la capisco il punto è se davvero risolve e Tommaso su questo non ha un argomento vincente perché non abbiamo alcuna evidenza o convinzione che alzare l'imposta di successione riditribuisca il reddito ricchezza e crei maggiore uguaglianza poi in Italia potrebbe essere fatto solo abbassando quelle sul reddito perché altrimenti diventeremo già siamo uno dei primi nello specifico italiano qualsiasi imposta che si voglia alzare meglio che si abbassino l'IRAP l'imposta sul reddito eccetera altrimenti però qui si entriamo in un argomento che ha a che fare no non volevo si si no no io capisco va bene ci siamo capiti credo che Dommaso io ci siamo capiti grazie prof grazie a te vi sto cercando l'articolo in questione per chi lo volessi tanto però ascolto dimmi allora c'era una domanda sulla moneta se non sbaglio o no 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 abbiamo cancellato quella c'è Matteo Rapagna che ha una domanda sulla spesa pubblica buonasera prof buonasera per rimanere in tema di populismo economico mi è capitato dopo il dopo la voto di fiducia al governo Draghi di avere una discussione in privato con un esponente politico dell'attuale opposizione che festeggiava diciamo la fiducia al governo Draghi dicendo e vai adesso finalmente politiche cainiziane a prescindere dal a prescindere dal dal soggetto in questione secondo lei come come viene attualmente declinato il concetto di spesa pubblica che Keynes aveva fatto in un periodo di crisi parcializzata a una spesa generalizzata e incondizionata e soprattutto se io ho studiato soltanto in Italia se nel dibattito accademico estero oppure nel dibattito pubblico estero la spesa pubblica di Keynes viene vista come viene vista qui e come viene trattata qui dalla politica e da alcuni esponenti accademici allora dal più semplice politico al leggermente più complicato Italia è sempre avanti nei paesi occidentali ok quindi ovviamente il livello di trasformazione della spesa pubblica in qualsiasi regalia fatta dallo Stato e spesa pubblica keynesiana è generalizzato nel mondo ma ovviamente l'Italia è avanti per cui appunto i bonus alla Robin Hood a rovescio che tassano le generazioni future per permettere ai quarantenni cinquantenni sessantenni e settantenni di adesso che benestanti che già possiedono una casa che volevano ristrutturarsela e farsela più bella di farlo con il riborso al 110% così mettono qualcosa in tasca e l'amico che all'impresetta di costruzione edilizia può anche passare i prezzi viene spacciato come spesa keynesiana quindi questi livelli come dire di creatività clientelare italiana non li ha raggiunti nessuno però come mi ha fatto capire Andrea Moro che l'aveva studiato più di me sembra che Biden e compagnia siano andati a scuola dai 5 stelle perché se tu guardi l'ultimo provvedimento c'è una quantità di prebende a questo o quell'altro gruppo di interesse che non finisce più allora questo è una di quelle cose che sai dipende dai punti di vista che hai perché perché la possibilità di provare o non provare in maniera conclusiva assoluta che questo tipo di spesa non favorisce la crescita ma anzi la distorce e la riduce ma di sicuro non la favorisce che l'unica cosa che fa è redistribuire risorse da chi non ha protezione politica non fa parte della coalizione politica vincente non sto dicendo da ricchi a poveri a poveri a ricchi perché appunto non è così a chi invece fa parte della coalizione politica vincente d'accordo è tecnicamente impossibile perché perché il processo di crescita è un processo complessissimo non c'è maniera di fare esperimenti controllati e quindi dire il reddito di cittadinanza ha favorito la crescita economica in Italia perché in assenza di esso sarebbe stata ancora peggiore o dire viceversa e riuscire a provarlo è fuori dall'ambito dalle possibilità di qualsiasi esercizio scientifico ok quindi la cosa che devi fare è cercare di portare argomenti più o meno convincenti da un lato dall'altro in un dibattito aperto io sono dell'opinione che gli argomenti per esempio nel caso del reddito di cittadinanza in un dibattito aperto sarebbero oltremisura a favorevoli e mostrerebbero che il reddito di cittadinanza è dannoso alla crescita e non nemmeno redistribuisce da ricchi a poveri ma semplicemente redistribuisce da chi paga le tasse ai furbi che riescono a infilarsi nella categoria del reddito di cittadinanza e questo vale per molta della roba che viene definita keynesiana qual è il problema il problema è che Khan in particola un signore questo signore qua oggi il fatto che sono per la prima volta in ufficio mio dove ho la maggioranza dei miei libri di economia veri posso mostrarvi questo signore qua come vedete tutte quelle robe lì sono tutte in italiano perché sono tutte studiate e lette finché hanno fatto questo qua e vediamo dove l'anno sta eccolo qua luglio 76 si è inventato quella roba chiamata il moltiplicatore e il moltiplicatore è un esercizio retorico fantastico capisci perché beh perché il moltiplicatore dice una cosa miracolosa dice insomma ma tu non ti preoccupare tu governo fai debito se ti indebiti per uno riesci a produrre uno virgola qualcosa di sicuro il sistema economico grazie al fatto che tu ti indebiti per uno lo spendi tu perché se lo spende Tommaso Spinelli Matteo Rapagna Matteo Battaglio no però se lo spende il signor Di Maio sì quando lui spende l'extra dollaro l'extra dollaro suo ha un effetto moltiplicativo per cui si farà un euro e mezzo un dollaro e mezzo di pillo è stata mai provata sta roba no è stata mai provata l'opposto nemmeno di nuovo l'evidenza econometrica è sostanziale a mio avviso a suggerire che no che questo magico moltiplicatore non c'è l'evidenza nei fatti tra l'altro lo dimostra perché però non è la prova approvata i paesi con maggiore spesa pubblica a debito non sono quelli che crescono di più né sono mai riusciti a realizzare perché uno dei trucchi no perché c'è anche il keynesiano che è conservatore fiscale quindi uno degli strumenti retorici del keynesiano conservatore fiscale cos'è esiste il moltiplicatore tale che per un dato livello di tassazione se io faccio debito e faccio spesa pubblica aggiuntiva in base a quel debito lì poi l'effetto moltiplicatore sul reddito è così alto che siccome una parte di quel reddito lo tasso ricavo di tasse quello che ho nel periodo prima fatto uscire sotto forma di indebitamento quindi alla fine vado pari e patta e ho fatto un miracolo il bilancio integrato dei periodi insomma lo stato patrimoniale dello stato non cambia rimane inalterato sommando i periodi però il reddito del paese è cresciuto questo è niente discuteremo per sempre di questa roba perché mentre a mio avviso non ha alcuna base scientifica esiste la maniera di scrivere modellini semplici che alla gente vanno bene per cui sembra che sia vero era questo che aveva in mente Keynes a mio avviso no e questo si sono disposto a dibatterlo con altri l'ho imparato da un signore che si chiama Axel Leianuf c'è il nome lungo e vediamo se ce l'ho qua o se ce l'ho qua eccolo qua questo mi sa che è ancora più vecchio che è stato mio collega poi però non mi sono mai ricordato di fargli di fargli di farglielo firmare e questo qua vi divertirà sapere che me l'ha regalato un mio amico quando eravamo assieme segretario e vicesegretario della FIGC Veneta lui poi ha continuato a fare il comunistone ciao Massimo diventando anche segretario nazionale della categoria più importante della CGL quindi adesso in pensione posso posso rivelarlo allora Axel in realtà che si occupava più di teoria monetaria in quel libro mette in evidenza che l'interpretazione chinesiana che viene data di Keynes è molto parziale e ha poco a che fare con l'economia di Keynes che era molto sulle aspettative eccetera e il buon case se uno va a leggerselo sia nei scusate sia nei saggi diciamo leggeri sia nel suo tentativo nella teoria generale di costruire una teoria generale che non ci riesce però ci prova di funzionamento del sistema ha in mente situazioni particolari di crisi non ha in mente la spesa pubblica di tutti gli anni ha in mente situazioni in cui da un lato le aspettative sulla domanda eccetera dall'altro il comportamento dei mercati finanziari è tale che l'attività di investimento non avviene perché c'è grandissima incertezza c'è paura c'è proprio il panico il panico degli anni 30 queste cose se le hai pensate negli anni 30 occorre pensare che la gente che scrive i libri per l'intelligente che sia ha in mente la situazione concreta in cui vive studia il mondo che ha non è che Smith o Riccardo fossero stupidi perché non si immaginavano il cambio tecnologico e la crescita persistente e pensavano allo stato stazionario vivevano a fine del 18esimo inizio del 19esimo secolo come potevano immaginarsi la transizione demografica e tutto il resto ovviamente il loro modo di ragionare era basato su quello che avevano evidenza di 200 anni 300 anni o anche 1500 se erano così ben informati o 2000 ok quindi non è che puoi dire ma insomma non c'è la crescita il cambio tecnologico in Smith c'è un pochino nella misura in cui lui vede il cambio dei commerci ma non è perché era stupido ok e non è perché lui dici ma in Adam la teoria economica di Adam Smith esclude la crescita io sono smithiano non può esserci la crescita una stupidata giusto nessuno direbbe una cosa ecco invece con Keynes c'è questa stupidata per cui Keynes ha detto che la spesa pubblica aiuta sempre no Keynes di suo ha detto in quelle circostanze lì col panico eccetera l'intervento centralizzato che ristabilisce fiducia e crea situazioni di domanda e supplisce quindi supplisce al fallimento di mercato in quel momento c'è un fallimento del meccanismo di mercato i mercati funzionano quando c'è fiducia quando credi nelle informazioni quando c'è un grado di certezza relativa nelle aspettative se ti trovi nel 1932 no questa cosa non c'è ok c'è proprio un breakdown del sistema economico le imprese sono sparite i mercati sono spariti ok e quindi ovviamente in quella situazione lì serve come se serve esattamente come nessuno di noi ha avuto un dubbio minimo che nel 2008 le banche centrali dovessero intervenire e come molti hanno detto salvare alcune banche poi il dibattito era su quante ne volevi salvare o su quanto eri stato tu la causa del rischio morale facendo capire earlier on che le avresti salvate comunque e quindi portando alcune di queste a prendere posizioni di rischio assurdo d'accordo ma insomma credo che che tu mi capisci quindi sì chi oggi continua a invocare Keynes come giustificazione per dire del reddito di cittadinanza o di ogni stronzata di spesa pubblica è evidentemente una persona in malafede a mio avviso però però dirvi come ho anche detto questo dibattito non finirà mai cioè è abbastanza palese che con in mente l'idea del moltiplicatore non finirà mai ed è possibile all'interno dei dibattiti pubblici fare opposizione a questo concetto cioè fare opposizione al concetto che l'economia professata da Keynes non era quella che oggi vogliono far passare come economia keynesiana oppure c'è bisogno di persone all'interno dei dibattiti pubblici sì ma non credo che serve poi sai onestamente chi se ne frega cioè voglio dire se anche è perché non ho capito perché si vuole essere al solito meccanismo come dire della così religioso perché non è che sia giusto perché l'ha detto Keynes no l'ha detto Keynes e so what perché se lo dice Spinelli non va bene cioè gli argomenti o rapagna avevo l'occhio buttato su Tommaso gli argomenti vanno svolti di volta in volta quindi io preferirei a me il dibattito di è Keynesiano o non è Keynesiano è un problema al più di chi si interessa appunto come Axel di storia di pensiero economico cioè un dibattito interno all'accademia non è non ha rilevanza pratica politica non vedo perché debba avere rilevanza pratica politica rilevanza pratica è questo investimento vale la pena o no dal punto di vista e a chi conviene perché poi qual è il trucchetto del moltiplicatore il trucchetto del moltiplicatore che ti permette di evitare la vera domanda sulla spesa pubblica perché il moltiplicatore ti permette di dire eh ma sì fa bene a tutti cresce il reddito di tutti non è mica vero non è mica vero no? per esempio osservate ho visto persone scrivere cose molto improbabili sul super bonus edilizio dicendo che fa bene a tutti perché così riparte l'edilizia ma chi l'ha detto che fa bene a tutti se riparte l'edilizia? no? fa di sicuro bene a chi ha le piccole imprese edilizie ma facendo aumentare i prezzi a chi ha una casa e a chi ha una casa e fa bene a chi ha la casa a chi non ce l'ha non fa bene ad alcuni può anche far danno quindi non esiste questa cosa del moltiplicatore che fa bene a tutti ripeto il moltiplicatore chinesiano che fa bene a tutti è quello di quando la disoccupazione è il 20% quando c'è una disruption dei mercati quando c'è una situazione di panico che sono avvenute nella storia dei sistemi di mercato occidentale in ultimi 150 anni ma che non è ogni anno e francamente non è neanche molto quello che si è creato in seguito alla pandemia che è la ragione per cui i provvedimenti alla Biden lasciano perplessi ed è la ragione per cui almeno in principio vedremo cosa ne verrà fuori ma almeno in principio l'approccio preso dalla comunità europea è più saggio perché l'approccio preso dalla comunità europea non è oh mio dio c'è un drammatico calo di domanda soldi a destra e a manca perché altrimenti non comprende perché non c'è nessun calo di domanda perché moltissimi redditi nominali sono rimasti perfettamente intatti tant'è che tutti gli indicatori dicono sono aumentati i risparmi quello che c'è c'è un aumento della diseguaglianza causata dalle politiche pubbliche su questo io ho già scritto lo sapete ho sempre detto fino all'inizio che sarebbe stato necessario un'operazione fiscale di trasferimento dai fortunati agli sfortunati mi è stato risposto che ho due dipendenti pubblici pensionati sti cazzi mi sono posto un problema di diseguaglianza effettiva e di quindi anche effetti che questo ha sulla struttura della domanda non di tant'è che la proposta come l'avevo tecnicamente formulata io avrebbe preso tranquillamente pubblici e privati e non solo non avrebbe per niente fatto trasferimenti gratuiti agli invasori fiscali perché siccome si basava sullo ripristino del reddito dichiarato anni prima se era il classico ristorante perché ci sono per carità o il classico barbiere fate voi o il classico estetista che dichiara uno anche quando ricava cinque ti ripristinavamo uno per cui il gioielliere che chiude notoriamente i gioiellieri erano un reddito annuale attorno ai 20.000 su tutti i poveri e si beccava che a causa della pandemia si beccava 20.000 di ristoro aveva fatto 130.000 l'anno prima avrebbe fatto meglio dichiararli ok questo era il criterio però quello ha fatto la pandemia non ha creato una caduta della domanda globale quello che ha fatto vedremo le continuation policy vedremo l'effetto della campagna vaginale è di sicuro cambiare è di sicuro cambiare le condizioni a cui tutta una serie di strutture e aziende offriranno i loro servizi nel futuro giusto? ripeto dipenderà da come si aggiusteranno o non si aggiusteranno scusate i comportamenti in seguito al vaccino avanzare le cure le mutazioni del virus però è chiaro che tutta una serie di attività dovranno modificare le forme dell'offerta quindi è uno shock di offerta e quindi più che fare politiche di domanda devi spendere soldi su politiche di trasformazione dell'offerta che vuol dire particolarmente in paesi come l'Italia siccome quell'offerta è fatta da persone di non alta specializzazione di non alta cultura con skill relativamente bassi perché il mondo di questi lavori a contatto chiamiamoli servizi a contatto è un mondo di gente che non ha non è che non ha il dottorato non ha neanche il master non ha neanche la laurea d'accordo? e forse molti non hanno neanche il diploma in scuola media superiore quindi sono persone che offrono dei servizi anche utilissimi che adesso saranno più difficili da offrire più costosi e però non hanno molte altre professionalità lì devi aiutare a trasferirsi a altre professionalità e questo non lo fai dando reddito a Vambera giusto? lo dai spendendo miliardi nel mandare letteralmente a scuola sta gente c'è una valanga di ragazzi facendo i camerieri che vanno mandati in istituti tecnici professionali a imparare un lavoro altro da fare i camerieri perché il loro posto di camerieri non ci sarà più adesso da qua ho divagato ma è per è per capisci l'argomento keynesiano che viene utilizzato basta far domanda poi c'è il magico moltiplicatore non è che lo puoi dibattere in generale devi andare su situazioni specifiche come queste e dire no guardiamo concretamente cosa cazzo è successo guardiamo concretamente chi è che ha un problema adesso e chiediamo dove un intervento statale può essere utile oggi non do i soldi a caso a chi ha la casa appunto perché si faccia i pannelli solari il fatto che qualcuno si fa i pannelli solari forse che cambia le condizioni di lavoro e gli estetisti che non potranno più fare gli estetisti dovranno fare investimenti addizionali per farlo bene perché la gente non avrà fiducia dubito non vi pare io così la vedo quindi l'invito è dibattere questo pseudo-kenesianismo sulle questioni concrete ogni volta che ti vogliono portare sulla filosofia astratta in generale la risposta è ma guarda posso scrivere un modello in cui hai ragione tu un modello in cui ragione io il problema è che non risolgo un pifero guardiamo la situazione concreta Italia, Francia, Spagna di mercato gallarate e vediamo qual è il problema no, grazie molto esaustivo direi prof ah, aspetta che corrego un errore questo no, è la domanda di beni di consumo che sta diminuendo Matteo mentre sta aumentando la domanda di beni investimenti perché chi risparmia compra da qualche parte qualche asset ho risposto a tutto mi raccherei di sia ma c'era quella domanda sulla moneta che a me in realtà non dispiaceva me la fai di nuovo un po' a lunghina anche perché la sto confondendo con un'altra che qualcuno ha messo sulla mia pagina di Facebook Stefano Urbani che anche quella era interessante gli avevo detto infatti vieni a farla non penso sia la stessa persona ma è quella come moneta in quanto riserva di valore intende? ah no è diversa allora è quella sulla riserva di valore ecco quella non è una brutta domanda comunque Tommaso e Matteo se volete siete liberi di andare sappiatelo non vorrei che vi sentiate fate quel diavolo che volete detto altrimenti anzi volete intervenire se qualcun altro che vuole intervenire visto che sono arrivato in ritardo faccio io proprio l'unica cosa per coinciliare la storia dei moltiplicatori con quella della distribuzione mi è venuto in mente non so se lo conosci c'è uno psicologo canadese che secondo me è molto bravo Jordan Peterson che sul appunto sulla linea del se è giusto o non giusto togliere ai più ricchi per dare ai più ai più poveri lui faceva il paragone con la lotteria genetica lui diceva tu nasci con un qui di 80 o di 160 ma non dipende da te si tratta della lotteria genetica solo che se tu dai 100 euro a uno che ha un qui di 160 li fa diventare 300 se tu lo dai a uno che ha un qui di 80 magari ne perde invece che moltiplicarli quindi bisogna fare moltissima attenzione è una cosa complicatissima io sono profondamente d'accordo questo Peterson so che è diventato molto popolare perché è una maniera brutale e molto che io trovo discutibile di ridurre la cosa allora faccio outing con amico e collega da tutta la vita Aldo Rustichini su questi temi riflettiamo e mettiamo nel cassetto le cose da tanti anni anche se invecchiando ci siamo detti vabbè anche se ci impiccano va bene a me diciamolo sto problema che Peterson un po' semplifica dopo che qualcuno me ne ha parlato è molto divertente perché poi in accademia si fanno lavori si tende ad ignorare quello che accade fra i divulgatori poi un giorno ti svegli vai su youtube e qualcuno tipo Lorenz dice ma Michele Master hai mai letto Jordan Peterson quando mi è venuto in mente ho detto ma questo è un mischiotto del giocatore di palacanestro perché e poi mi sono andato a guardare chi era sì diciamo che volgarizza e brutalizza e estremizza perché decisamente ha deciso ma insomma qua ci sono due campi contrapposti sono tutti e due grandi abbastanza mi farò insultare da quelli di sinistra ma divento il dio di quelli di destra e così prendo i soldini e infatti è uno che prende i soldini cioè vai in giro fai gli show vende caca io di questi non ho amore che anche se sono d'accordo con me anche se dice all'87 o anche al 98% cose che io posso condividere chi trivializza le cose le trasforma in soluzioni rapide e lo fa per far spettacolo perde la mia stima però lui in realtà dice che non c'è una soluzione cioè che è una questione complicatissima che non c'è una risposta ecco non ho avuto l'impressione che sembra che dica sì non c'è risposta per cui lasciate stare chi vince vince chi perde perde allora anch'io sono convinto che la risposta non chiederci la risposta che come dice la parola che cos'è quella di Montale che squadri da ogni lato e l'animo nostro informe questo solo oggi possiamo dirti eccetera eccetera quel che siamo ciò che non vogliamo nel senso che la risposta scientifica è di quel tipo lì è molto negativa e riconosce che esiste un fatto obiettivo anzi io vado oltre sono abbastanza convinto che se uno guarda tutti i processi di crescita economica di sviluppo praticamente tutti i paesi del mondo il ruolo di quella che viene chiamata la smart fraction è cruciale infatti ha quello nella riflessione con Aldo ci stiamo dedicando capire quanto rilevante è cioè cos'è la smart fraction smart fraction è quella percentuale di popolazione da cui vengono fuori gente come i quattro qua a dire la verità senza essere finti umili cioè persone che riescono ad avere una capacità di innovare di inventarsi le cose ci mettono più sforzo hanno più ambizione ci sono svariati tipi c'è chi diventa poeta e chi diventa speculatore finanziario non è necessario chi dipinge quadri è chi va a fare le avventure in barca chi costruisce aziende o chi anche si dedica all'agricoltura biologica però è comunque quella fetta 10, 15, 20 e lì già comincia ad esserci il problema quant'è grande no? di popolazione che tira e crea l'innovazione a costoro l'altra pezzo è altamente complementare e allora il problema vero qual è? il problema è com'è che te li tieni questi nel sistema economico com'è che li valorizzi al massimo e c'hai questo continuo del tutto empirico problema di creare un trade-off di creare un momento di equilibrio adeguato in quel trade-off fra dare tanto incentivo alla smart fraction di fare il meglio e dare al resto che poi il resto non è omogeneo perché l'altro 75, 80 decidi tu per cento è fatto di gente molto vicina alla smart fraction di gente molto lontana che effettivamente ha pochissima capacità di fare da solo sì che però non ha nessuna colpa nessuna colpa ma infatti impostare sta roba in termini di colpa è quello cioè come vedi io la parola colpa l'ho abolita no 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 assolutamente era un anche Peterson dice bisogna aiutare chi è stato più sfortunato nella lotteria genetica ma io non voglio neanche usare aiutare io voglio usare un meccanismo preferisco usare la parola incentivo voglio creare mi chiedo sotto quali condizioni ottengo un bilanciamento più o meno ottimale fra la smart fraction e il resto tale che minimizzo il conflitto sociale e massimizzo come dire il tasso di crescita e non credo che ci sia una soluzione buona per tutte le stagioni buone per tutti i paesi per cui se vado nel mondo in cui vive per dire mio figlio o il mio amico Mike Horvath noto che c'è un livello di tensione da parte e di accettazione se vuoi della diseguaglianza endogena al sistema di mercato che per me è troppo alto se vengo in Italia noto l'opposto quindi se vado a cena a Palos Verdes da mio figlio e i suoi amici che sono tutti iper duper qua la spacco il mondo dico devi andare a calmare si potrebbe fare anche qualcos'altro non è detto questa roba della schooling pagato solo con le tasse locali io non la condivido molto perché quella crea gli incentivi sbagliati quella crea una separazione estrema fra il top 20 e il resto e non mi sembra nel lungo periodo infatti la ritengo dannosa se però vengo in Italia e ogni volta che uno dice ma scusate potremmo introdurre un minimo di meritocrazia tra i professori delle scuole mi viene risposto liberista di merda vuoi monetizzare il nostro allora dicono state male state male perché obiettivamente Cristo ci sono professori bravi che motivano che insegnano che ti danno tanto e ci sono professori cialtroni che non lo fanno io voglio premiare i bravi evitare che i cialtroni prendano troppi studenti o almeno ai semi cialtroni quelli che stanno a metà che poi è la grande maggioranza che potrebbero ma non hanno voglia perché non hanno alcun incentivo voglio dare l'incentivo di fare anche loro come quelli bravi quindi capisci cosa voglio dire non c'è è difficilissimo cioè si si tratta di riconoscere che questo è un fatto quello che dice quindi se è questo quello che dice a Peterson questo è il fatto e poi però bisogna prendere un atteggiamento proattivo cioè situazione per situazione cercare i punti i punti che massimizano appunto l'obiettivo sociale ecco grazie allora visto che prima l'avevo promesso c'è il sito di econometrica che funziona male stamattina non so cosa c'è per cui non riuscivo a farvi vedere però volevo farvi vedere il l'articolo in questione che ho menzionato per gli interessati è questo quindi lo trovate su Idea gli autori sono questi si vede no? a questo si vede lei diceva che era un mistero ma è pubblicato su econometrica novembre dell'anno scorso quindi se volete la versione finale è lì ma questa è la stessa quindi siccome il sito avevo aperto il sito econometrico ma non mi funziona la fa i capricci continua a non darmi però lei ha detto che è un mistero ma in realtà già nel 2008-2009 il suo libro Against Intellectual Monopoly già lo lo provava abbastanza no 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 magari lo avessimo provato diciamo che avevamo un'intuizione e ce l'abbiamo ancora e non l'abbiamo più che altro perché perché io sono finito dopo a fare altre robe e David ha detto vabbè tu fai altre robe io ne faccio le altre quella lì la facevamo assieme se non hai voglia di farla la farà qualcun'altra è tanto da colpa di fermare il declino adesso che a quel tempo avevo messo su un progetto piuttosto ambizioso di mostrare secondo me c'è e continuo a dire che andrebbe fatto con un po' di coraggio se si vuole capire la diseguaglianza del reddito e anche di ricchezza nel mondo occidentale inclusa la Cina inclusa la Cina bisogna guardare alle legislazioni di proprietà intellettuali di ogni tipo e alla creazione di monopoli di monopoli che questa per me e con questo mi approfitto per invitare Fabrizio Barca che continua a umiliare la sua intelligenza dicendo cose assurde sui vaccini che finché le dice a Roventini non c'è niente a stupirsi se dice a Roventini non umilia la sua intelligenza anzi è già tanto che rischia a dire quelle cose lì ma Fabrizio sa meglio che questo continuo straparlare dei capitalisti cattivi che hanno fatto il vaccino senza vedere da un lato il problema strutturale che ha a che fare con l'industria farmaceutica la sua strutturazione che si è venuta determinando nei decenni perché ci sono sistemi sia di proprietà intellettuale sia di intervento statale che creano Big Pharma e che dall'altro nel caso specifico questo dei vaccini anti-Covid non c'è per niente un problema di proprietà intellettuale monopoli c'è un problema di carenza di productive capacity scusate mi viene in inglese di capacità produttiva tipica di tutte le grandi innovazioni che quando arrivano hanno una domanda enorme per cui stare lì a chiedere quindi questi che stanno guadagnando quelle che Riccardo chiama competitive rates sono alte sì allora se c'è adesso c'è un ruolo per la politica pubblica è espandi la capacità produttiva punto fine la domanda è perché nessuno visto che Moderna l'ha lasciata libera perché nessuno ha fatto delle fabbriche perché nessuna azienda farmaceutica che si è preso il vaccino Moderna ha cominciato a produrre la manetta nell'ultimo anno anche se il brevetto era pubblico perché evidentemente la capacità produttiva è quello che è così e tra l'altro vorrei far notare perché è importante che Big Pharma questo si questo si potremmo dedicarci vorrei che qualcuno avesse il coraggio di dire Big Pharma questa è una cosa che con David avevamo capito è una creazione dell'intervento statale perché Big Pharma è il prodotto congiunto di tre interventi statali uno è il sistema di proprietà intellettuale e di brevetti sui prodotti farmaceutici due due sono i sistemi di finanziamento alla ricerca scientifica nel campo medico biologico che sono diretti in una certa maniera e favoriscono certi tipi di comportamenti tre è il sistema di di test no in particolare quelli di stadio 3 il sistema di test fatto così così come l'abbiamo organizzato è totalmente regolato FDA FDA per gli italiani insomma in America no European Medical a proposito cosa ha detto Lema mi avevo da fare e quindi cosa hanno fatto adesso hanno detto che cambieranno il libretto illustrativo dicendo che per alcuni tipi di trombosi particolari potrebbe esserci correlazione ma non è provata ah ma non è provata cioè qui non hanno autopsie cose che evidenza che provi che c'è è l'azione del vaccino ma Dio che casino che hanno fatto madonna cioè questa è proprio una delusione sia da Merkel che da Draghi perché hanno entrambi la capacità scientifica proprio l'emozione ma probabilmente sai questo dipende anche da come ti informano da come ti mettono il problema perché siccome capisci che c'è una dimensione politica se ti agenda setting è importante in decision making perché non è che e quindi i governi sono tornati indietro hanno ricominciato a vaccinare hanno detto scusate ci siamo sbagliati la Francia già stasera Draghi domani mattina ha detto si ricomincia a vaccinare ma non mi sembra sia stata comunque una decisione di Merkel e Draghi lei no ha detto la meccanica la meccanica adesso è chiarissima questo istituto tedesco vaccinale che è federale ha detto se ne è uscito questo comunicato assurdo ha fatto sapere alla presidenza loro che c'era sto fare loro hanno delle leggi la legislazione tedesca dice che c'è una liability del governo dello Stato quando promuove una medicina anche se non la impone la promuove e questa ha effetti collaterali dannosi a fronte di questo della paura e del comunicato perché il comunicato se voi guardate il primo dopo hanno cominciato il comunicato guardate il primo no ovviamente è una persona non non specialista di controlla gruppa bla 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 dici madonna sta roba c'è la trombosi quindi fa paura da quello che ho capito la Merkel è partita il governo tedesco è partito di iniziativa dopodiché non so se hanno deciso subito di sospendere prima di chiamare gli altri grossi governi europei o l'hanno fatto dopo questo diciamo che i rumor sono diversi però hanno preso questa iniziativa gli altri hanno seguito la ruota e alcuni governi europei grazie a Dio hanno detto cicciabù io non ci sto però i piccoli cioè Belgio Grecia i quattro grandi hanno tutti seguito la ruota quindi il danno il danno di nuovo la smart fraction se ne frega come Roberto Burioni ha ripetuto tutti questi giorni io adesso se non fossi vaccinato se lo vedo il vaccino per terra lo lecco c'è una delle immagini sempre molto belle è molto bravo su queste immagini se io mi butto per terra e lo lecco se non fossi stato vaccinato gli abbiamo fatto osservare che leccandolo non funziona perché bisogna iniettarselo ma comunque ovviamente era la metà era una quindi il problema sempre è per quel 50-60% di popolazione che non capisce cosa sta succedendo che tende ad avere che adesso dirà stanno mentendo perché gli hanno detto i governi allora questi hanno detto ma non è vero vedrai che sanno che coppa tutti quelli voglia è di convenza è un disastro pare che da un ultimo sondaggio il 9% della popolazione sia pronta a fare AstraZeneca e il 10% sarebbe pronta a fare Sputnik che non è ancora neanche stato approvato la smart fraction invece la 10% di Sputnik è la stupid fraction sì però è un disastro perché hanno instillato il dubbio adesso l'Università ha vaccinato decine di milioni di persone stanno riaprono i bar riaprono i ristoranti fra un po' riaprono le discoteche non che sia un grande interessato però qua invece per paura di non si sa cosa è un danno enorme è stato proprio un errore ma proprio al di là cioè va bene infatti la mia reazione è stata io non ci credevo tant'è che il primo tweet che ho fatto non riuscivo a crederci che fosse stata presa la presidenza del Consiglio questa decisione perché è cioè non c'è criterio che te la giustifichi se non quella della proprio del politico basso che dice vabbè io mi copro il culo comunque tanto poi i danni non sono evidenti no? questi di cui stiamo parlando qualcuno chiede se fatto il danno è meglio partire subito agli spagnoli aspetta una settimana bravi geni Pedro Nacio di lei a Pedro che sei despierte no meglio partire subito ovviamente tanto questo è bellissimo speriamo sia un po' più ampia dai speriamo che domani scopriamo che il 12% è disposto a farsi l'AstraZeneca così cresce la Smart Fraction italiana comunque insomma è successo quello che prevedevamo va bene prof io ne approfitto una domanda scusate però magari mi ricapita chissà quando guardo che non vorrei vedere gli studenti che mi arrivano tu vai avanti a parlare che mi controlla sul monopolio sulla sua perché ho ordinato il libro ma non mi è ancora arrivato io l'unico dubbio che ho mi ha convinto totalmente sul Capital Intensive cioè sui brevetti dove bisogna investire tanti capitali è chiaro che si crei un monopolio ma sul Labor Intensive cioè se io mi mettessi nel garage per 5 anni e uscissi fuori con un brevetto che cambia un meccanismo un se non ci fossero leggi sulla protezione intellettuale io ho lavorato 5 anni non sfruttando il mio capitale quindi non creando ancora più disuguaglianza per poi se non c'è se non c'è la protezione intellettuale cioè si disincentiva il no una domanda è un dubbio che togliendo un po' sto ascoltando sto ascoltando togliendo la protezione intellettuale sui brevetti sulle innovazioni Labor Intensive cioè dove uno ci mette il cervello non ci mette milioni di innovazioni milioni e milioni di innovazioni ma non è quello il nostro argomento l'argomento non ha nulla a che fare con come si è arrivato all'innovazione ha a che fare con l'effetto di avere monopolio legale sull'innovazione cosiddetta innovazione ok per un periodo di tempo prolungato e questo non dipende dal fatto che tu l'abbia ottenuta col capitale allora anzitutto l'argomento nostro iniziale nasce da un'osservazione teorica e empirica sulla crescita quindi il problema da cui partiamo con David da cui partimmo allora la storia di questa roba è divertentissima io sono uno studente fra gli altri di Romer e Paul è un vecchio amico di David erano in classe insieme a MIT poi Paul mollò a MIT se ne andò a Chicago a finire il PhD ma insomma erano in classe insieme il primo anno e io con Paul ci vandavo d'accordo voleva essere il mio advisor di thesis voleva che lavorassero le robe su ma le robe su non mi convincevano già allora quindi ho lavorato con Lion però lui fa parte del mio thesis committee avevamo anche pensato per un tempo di scrivere paper assieme David e Paul ne hanno scritto più di uno assieme solo che la roba di Paul l'esternalità tutta sta cosiddetta non c'ha mai convento e ne avevamo sempre discusso nel senso che l'idea di questa teoria viene dal fatto che Lucas purtroppo scrisse un paper orrendo Mechanics of Economic Development nell'85 in cui convinceva tutti con la sua capacità fantastica di semplificare gli argomenti che la cosiddetta teoria neoclassica della crescita non era perfettamente incapace di spiegare la crescita arrivando all'estremo che non c'è crescita nel modello che so quello di cui parlavamo prima tra l'altro riferendoci alla Cambridge controversia che è un'affermazione proprio tecnicamente falsa infatti io ho sempre fatto questo giochetto in classe ma anche con i colleghi di dire avete letto tutti solo 56 vero? che tutti dicono eh certo ti immagini lo conosciamo come se fosse le nostre tasche e quindi conoscete di sicuro la nota a piedi pagina numero 5 o 6 adesso mi ricordo che sia da 5 o 6 cioè voi sapete che in solo in quel paper c'è ed è il 56 in un nota dice ma sì questo modello ha la crescita permanente però siccome non me ne frega una serie perché voglio discutere la stabilità dello Stato Nazionario di Arode Domar quel caso lo escludo tanto è una roba vecchia che sappiamo tutti che è vero perché lo sapevano da von Neumann e lo sapevano tutti chi studiava teoria della crescita seria in quegli anni diceva ma sì cioè la crescita endogena qua è banale non ci interessa i problemi di stabilità sono più complicati studiamo quelli per chi non ci creda fatemi vedere devo avere la versione addirittura italiana qua sento questo invece ho comprato più tardi perché volevo vedere le traduzioni in Italia infatti costa un casino di soldi è una raccolta di saggi di solo credo che ci sia quello ovviamente il 56 non deve aver regalato lui eccolo qua la funzione di produzione è una teoria capitale no non è questo questo è quello con Robinson ecco allora lo trovate per chi ha questa versione se lo dovete trovare l'osservazione che dico è questa è la nota 6 guardate che è molto divertente vedete quella nota lì orca Maria vediamo se riesco a farla eccola lì l'equazione della prima potrebbe essere quella là ecco questa è una nota di un articolo che è stato pubblicato nel 56 è scritto nel 55 e vuole quella nota si riferisce a questo grafico questo qua allora in questo grafico avete sull'asse scusate col fatto che è rovescio le dita mi vanno allora devo mettermi così avete sull'asse delle ascisse lo stock di capitale scusato e sull'asse delle ordinate l'output la riga a 45 gradi indica i punti in cui quello che usi come input produce un output uguale a se stesso quindi non c'è più crescita la curva sopra che è S S è il tasso di risparmio nel modellino di solo 1 è il livello di occupazione 100% perché questi modelli sono costruiti così R è il rapporto fra capitale e lavoro che avete ok allora quella indica che in quel caso lì l'output cresce per sempre perché la puoi accumulare capitale per sempre cresce per sempre il rapporto capitale e lavoro d'accordo e crescendo per sempre il rapporto capitale e lavoro cresce per sempre la produttività ok e quindi l'output per capita cresce illimitatamente questo si può tenere per gli addetti ai lavori chissà cos'è una CIS con una CIS con un tasso con un parametro che indica la sostitubilità fra capitale e lavoro positivo maggiore di quella della COP Dallas quanto maggiore deve essere dipenderà da quanto il depreciamento del capitale però per il resto se non c'è il depreciamento del capitale avrò maggiorizzare il sufficiente tra l'altro questo è l'esempio nel suo caso assurdo che Thomas usa nel libro per dire ecco visto perché in quel modello lì è vero in quel modello lì la crescita viene tutta dall'accumulazione del capitale ok e quindi in quel modello lì il reddito per capita cresce all'infinito però va tutto a chi possiede il capitale ma allora basta interpretare il paper in maniera il modello in maniera intelligente la differenza fra capitale e lavoro in quel paper non è che il capitale sono le macchine e il lavoro è la forza bruta è che il lavoro è ciò che non puoi riprodurre accumulare e crescere e il capitale è tutto ciò che poi no scrive un modello disaggregato riprodurre accumulare e crescere fra cui il capitale umano le conoscenze eccetera eccetera quindi fondamentalmente il modello è molto consistente con i dati questo poi oggi provi a disaggregare i dati vedi che il lavoro brutto cioè proprio la forza lavoro assolutamente senza skill quella di Marx ok riceve in effetti una quantità miserrima praticamente infinitesimo ormai il prodotto interno lordo di ogni paese semi avanzato e il grosso invece va a cosa va a quel tipo di capitale chiamato capitale umano chiamatelo come diavolo vuole volete quello che noi boomers non abbiamo che ti permette di utilizzare macchine strumenti fare ricerca ma anche usare il tornio adeguatamente perché se tu prendi uno brutale prendi mio papà quando aveva otto anni poi ha detto o mio nonno e lo metto in fabbrica spaga tutto perché lo strumento macchina non l'aveva vista quindi tra l'altro c'è una lettura di quella cosa che dice è così io lo uso molto in classe per far capire perché il problema del cambio tecnologico è cruciale e va studiato così allora lucas purtroppo è tutto un mondo che a metà anni 80 si convince che non ha letto solo non ha capito non conosce la teoria della crescita e quindi si convince che la crescita viene solo dall'esternalità dei rendimenti crescente ed è una cosa illogica se volete faccio delle lezioni in giorno pubbliche con chi è interessato perché è una cosa proprio illogica non funziona anche teoricamente è sbagliato ok è proprio sbagliato c'è poco a fare e se ne esce questa roba qua a David a me sta roba stava sul culo stava sul culo anche a Lion stava sul culo a tanti tutti i teori dicevano ma che valanga di cazzate tra l'altro non funziona solo che nessuno c'è una cosa strana è uno degli effetti sociologici dell'avere persone molto importanti molto stimate come Lucas come Barro che si mettono a fare una certa cosa e la cosa diventa di moda a un certo punto nel 97 circa David mi dice senti sono 11 anni che ne parliamo siamo d'accordo su tutti avremo scritto 50 esempi per mostrare che quel tipo di teoria non funziona e che invece l'adozione di tecnologie e di innovazione in un modello di equilibrio economico generale con rendimenti costanti e sia perfettamente possibile e coerente e alla fine si fonda sul modello marshalliano dell'industria dell'impresa dell'impresa competitiva e dell'industria competitiva perché non scriviamo una nota e la scrivemmo non venne bene accolta ci furono delle controversie non indifferenti la tralascio gli aspetti personali però noi diciamo vabbè se ti vissi si ammessi a fare cominciamo a lavorare un giorno mi ricordo ero a Moischia per un convegno tra l'altro spapparanzati in piscina perché quel pomeriggio non c'era la cosa e devi mi dice ma ti rendi conto che una ovvia implicazione è che bisogna buttar via patenti e copie scusori ai sei patent brevetti e copyright e dico ma va ma no dice buona devi sempre più svento è proprio sembra un metro più avanti quando non sono 15 e dice ma sia così ma no è ovvio think about ero ovviamente dopo dieci minuti sono arrivato anch'io e da lì mi ricordo la perplessità ma cosa ci mettiamo a vista roba qua tanto siamo cresciuti a pane e brevetti se adesso cominciamo a predicare non brevetti però il problema da qui tutto questo per dirti che dietro al nostro punto di vista c'è una riflessione su cosa produce la crescita e come la si può modellare d'accordo il problema nostro inizialmente non era per niente la distribuzione del reto e la diseguaglianza il problema nostro inizialmente era cosa favorisce la crescita e l'innovazione da quel punto di vista ho capito capito capisci che l'innovazione sia stata fatta da big pharma o sia stata fatta da metà in garage fa poca differenza d'accordo e beh infatti se tu prendi le grandi innovazioni di cui tutti parlano poi ci sono quelle di cui la gente non parla però quelle di cui tutti parlano tipo facebook è stata fatta in garage anzi è stata fatta nel dormitorio del degli studenti di Harvard non aveva grande capitale dietro ma neanche google giusto? beh però non era protetto da brevetto no tra l'altro google no anzi il core del loro search engine è tuttora segreto industriale perché infatti è la ragione perché è così superiore è così meglio degli altri che che no meglio che non lo brevetto perché se no a questo eh sì a questo punto sarebbe pubblico no? sono passati più di vent'anni eh sì eh quindi 98 eh sì quindi no 98 no non è prima la 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 98 è una cittura ah può essere può essere il motore di ricerca se non sbaglio del 98 però pubblico è che devi brevettarlo prima di andare pubblico vabbè comunque saremo molto vicini anzi avremmo già passato comunque la cosa eh no non consiglio Antonio Romo la lettura di produzione di merce e mezzo di merce meno che tu non sia un specialista è un libro scritto in una maniera eh strana molto da guru Sraffa per quanto sia stato molto adorato io non lo trovo per niente interessante aveva questo stile da 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 oracolo di Delphi di scrivere per cui non riesci a capire di che cazzo parli e comunque non c'è niente in produzione di merce e mezzo di merce letteralmente non c'è niente c'è questa roba della che risolve un problema tutto loro ricardiano di rilevanza zero anche se pensavo di costruirci comunismo sopra eh ma c'è un pipe di un signore molto molto aristocratico milanese by the way Piero Sraffa era il figlio di quello a cui è dedicata la piazza o la strada dietro a Bocconi è uno dei grandi finanziatori di Bocconi era un uomo intelligente è bravissimo non voglio buttarlo giù il libro costa poco non so se la terza lo distribuisca ma mi fate cambiare argomento ah no vabbè mi ha risposto ho capito ho risposto quindi il problema sulla disuguaglianza è più complicato se guardi nei fatti perché per esempio prova a pensare da dove vengono le grandi ricchezze di tutti i musicisti di successo giocatori sportivi di successo diritti esatto e lì non è che ci sia grande capitale dietro all'ultimo rapper di moda giusto? no e quindi la domanda lì qual è? la domanda è è socialmente efficiente vale la pena cioè lì la disuguaglianza della reddita che quella cosa provoca per l'ultimo si rendono conto che in quel top 0,01% di gente che fa più di 20 milioni all'anno e che ha ricchezze superiore al mezzo miliardo al miliardo la percentuale di personaggi di quel tipo lì è altissima ed è crescente quindi chi protesta nel nome della rivoluzione socialista cantando le canzoni della rivoluzione socialista rapista non si rende conto che si sta veramente prendendo in giro perché i loro eroi che cantano almeno Pietrangeli quando cantava Contessa non apparteneva all'elite nobilare imprenditoriale economica italiana cantava Contessa ed era un morto abbastanza di fame mentre adesso tutti quanti a fare rivoluzione con il rapper e tutti quanti con il patrimonio netto di 634 milioni di dollari ok e tutta quella roba lì è costruita sulla copyright perché se tu lo fai saltare o lo riduci a due anni tre anni questi fanno comunque una valanga di soldi perché devo dire che se invece avere un patrimonio netto di 700 milioni e un patrimonio netto di 70 milioni non è che te la passi male eccetera quindi il problema passa da quella latta da quel lato lì però è una battaglia ho capito grazie sì Tiger Woods era era uno spettacolo lui faceva pubblicità di tutto boom dai ho riparato il mio ritardo vi ringrazio grazie a Lorenz che è un grande coordinatore grazie a lei grazie a lei un ringraziamento ai ragazzi anche se cerca di convincere tutti che una u invertita è come la la gaussiana quando ti ho sentito io si trovo mi porto le imprecisioni su sta roba ma che cazzo dice è che quando ho detto un invertito no no perché sono andato ho detto provo a parlare di concavity qua come facciamo poi ho detto un invertita non ho avuto nessun feedback ho detto vabbè una gaussiana ragazzi se avete presente almeno è strano però una u invertita è meno familiare diciamo che è una gaussiana cioè la gaussiana non è che tanta gente sa cos'è cosa dici Matteo ma se vuoi studiare io ho già studiato anche tu Matteo hai l'area che hai già studiato no no io sono all'ultimo anno di magistrale in economia e me ah vabbè stai finendo insomma sì sì non mi sembrava di 21 ecco non volevo bisogna un po' di compagnia ragazzi io sto invecchiando qualcuno mi dice ma no ma guarda io ne ho 35 è già un passo avanti come Lorenz Lorenz quanto ne hai tu 43 55 mi sento anziano ogni volta che mi alzo che ho piegato le gambe mi fa male il ginocchio e faccio ah mannaggia la roba veramente più anziana che abbia mai fatto in vita mia ormai è una settimana che lo faccio tutti i giorni e niente eh l'età va bene buon ragazzi su che canali siamo sul mio o su Google Libri? siamo andati su entrambi su entrambi e anche su Economia Italia mamma mia siamo in mondo visione abbiamo 5 canali che ma no va tremendo altro che il Presidente della Repubblica abbiamo tante persone che ci hanno seguito per tutta la live grazie mille ragazzi sì sì ancora 5 tempo 2 ore e un quarto dai basta che vado a bere qualcosa a mangiare qualcosa che non ho mangiato niente ciao Tommaso è caduto è stancato ciao Matteo ciao Tommaso grazie e Lorenz ovviamente da parte delle mie battute grazie mille alla prossima ciao ciao saluto a tutti ciao 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 grazie a tutti